Veniamo quindi al programma di oggi, non voglio rubare ulteriore tempo alla nostra mattinata. Oggi parleremo della legge entrata in vigore a dicembre, quindi la numero 215 emanata il 17 dicembre e entrata in vigore il giorno dopo, perché è quello che forse è sfuggito e che è entrata in vigore dal giorno dopo, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Quindi che cosa è cambiato, come va ad incidere sulle normative già esistenti in ambito di sicurezza e in tema specifico di DPI, cosa è cambiato? Lo faremo insieme all'avvocato Lorenzo Fantini, un avvocato giuslavorista, adesso si occupa di consulenza in materia di sicurezza e salute sul lavoro, è stato dirigente della divisione competente in sicurezza del Ministero dei Lavori Pubblici, un amico storico di Unigum, una delle voci che in qualche modo può meglio raccontarci questi cambiamenti, mentre per la parte di DPI lo faremo insieme a Claudio Galbiati, oggi in veste di dirigente della divisione affari legoratori di 3M, ma sappiamo che ha anche un ruolo istituzionale che è quello di Presidente di Assosistema, oggi lo farà insomma nel suo ruolo di 3M. 3M mi dà modo di lasciare un attimo la parola a Paola Seregni che ci racconta delle novità di 3M. Paola? Io ci sono, buongiorno a tutti, mi sentite? Grazie, mi sentite? Ok, grazie, buongiorno a tutti, io mi chiamo Paola Seregni, sono responsabile marketing di canale per la divisione Personal Safety di 3M. Nel mio ruolo io mi occupo di supportare i nostri partner, i nostri distributori principali nella promozione delle soluzioni 3M e nel promuovere anche attività di formazione per promuovere la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro. Io ci tengo innanzitutto a ringraziare tutto il team di Unigum e in particolare il gruppo di marketing con il quale collaboro in prima persona per averci dato ancora una volta la possibilità di essere qui con voi a condividere la nostra esperienza, ospitandoci all'interno del programma di formazione. Io non ho preparato una presentazione lunga e strutturata perché non voglio togliere tempo agli argomenti che poi verranno trattati dai relatori. Ci tengo però a darvi il benvenuto anche da parte di 3M a questo incontro formativo. Io credo che molti di voi già conoscano 3M. Noi siamo leader globale nel settore dei dispositivi per protezione individuale sia per le vie respiratorie che per l'udito, ma non solo. 3M offre una gamma completa di soluzioni per la protezione dei lavoratori. La nostra mission è quella di proporci sul mercato non solo come fornitori di prodotti e di soluzioni di qualità ma quella di affiancare i nostri distributori e le aziende sul mercato e proporci come partner nel farci forza voce della diffusione della cultura e della sicurezza per sensibilizzare i datori di lavoro, gli RSPP, i lavoratori stessi sull'importanza di una protezione efficace per difendere quotidianamente i lavoratori da infortuni e malattie professionali. Ed è proprio con questo spirito che siamo qui oggi a proporvi quindi un momento di formazione, di approfondimento rispetto alle novità che sono state recentemente introdotte dalla legge 215 del 17 dicembre. E lo facciamo con due relatori che sono i massimi esperti se vogliamo a livello italiano di questa materia quindi collega Claudio Galbiati e l'avvocato Lorenzo Fantini che sono già stati introdotti appunto da Vicky. Quindi ringrazio nuovamente Unigum, ringrazio i relatori e ringrazio tutti voi per essere, per aver aderito a questo invito. Quindi non voglio rubare altro tempo e vi auguro buon proseguimento di mattinata. Grazie Paola, direi che ci siamo. Io lascerei il microfono ai nostri relatori e ricordo a tutti di inserire i propri commenti e le domande in chat. Cercheremo poi di fare una raccolta di quelle che sono le domande più interessanti e lo sottoporremo ai nostri relatori. Lascio quindi il microfono a Claudio e lascio la parola a Lorenzo. Sì, grazie Vicky. Buongiorno a tutti. Benvenuti, siamo in tanti. Pochi qui in presenza fisica ma è questo. Credo che sia, spero, incrociamo tutte le dita che si possono incrociare facendo tutti gli scongiuri che si possono fare. Potrebbe essere una delle ultime volte che abbiamo queste limitazioni e quindi mi fa molto piacere, diciamo, parlare di questi temi. Ho anche preparato delle slide, ma siccome sono tante, sono dettagliate, non mi va di andarle a seguire, direi che vado a braccio. E quindi, diciamo, in termini generali vado a braccio, le slide, se poi vogliono andare, vadano, però io direi che mi servono più che altro soltanto per la questione, diciamo così, normativa. Perché dovete sapere che non mi ricordo le norme tutte e non me le ricordo a memoria. Quindi dovete, mi dovreste scusare, ma è tuo mestiere, non ti ricordi tutto l'81 a memoria, 306 articoli, 51 allegati. Voglio vedere se qualcuno di voi è in grado di battermi su questo. E invece preferisco andare un po' a braccio, perché le slide, casomai, io penso che le possiamo mettere a disposizione di chi le vuole, e sono dettagliate, poi naturalmente le andiamo un attimo, casomai le richiamerò io ogni tanto quando c'è da farlo. Primo punto, io vorrei fare una discussione con voi su due argomenti, perché chiaramente sulle questioni più tecniche mi faccio aiutare da quello bravo. Quello bravo non sono io, ma è alla mia destra, ed è Claudio Galbiati, che ha ognuno il suo mestiere, quindi l'impatto delle novità sull'uso del DPI è una cosa che io mi aspetto che Claudio spieghi innanzitutto a me, piuttosto che a tutti gli altri. Però, siccome non è la prima volta che ci incontriamo, io e Claudio direi che mi posso occupare della parte più giuridica, lui della parte più tecnica. E interrompimi quando vuoi, Claudio, facciamo una discussione che può essere interattiva, anche un po' provocatoria, se ti va, insomma. La prima cosa invece che vi devo dire, molto rapidamente, è che io mi trovo in un momento di grande difficoltà, perché non ce la faccio più a parlare delle novità. Quindi voi mi avete chiamato a parlare delle novità della legge 215, il decreto legge 146, generando una sorta di problema psichiatrico. Perché io mi sveglio la notte e mi sogno il preposto a fianco a me, perché so che chi fa sicurezza, in questi ultimi giorni, si sta interrogando sulla ricaduta della normativa di sicurezza. E' uno scherzo per dire, tutti coloro che si occupano di sicurezza sul lavoro stanno facendo i conti con un'innovazione legislativa importante, perché il binomio decreto legge 146, legge 215, ha impattato in maniera significativa sulla sicurezza sul lavoro. Quindi tutti noi ci stiamo chiedendo, non tanto in termini generali, che cosa ha voluto fare il governo, questo poi ve lo dico in poche parole, non è un problema, quanto piuttosto che tipo di impatto possono avere queste novità sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Ecco perché io faccio la battuta e mi sogno il preposto di notte, perché cerco di capire se è necessario nominare il preposto, che cosa si intende per obbligo di designazione, tutte queste cose che tratterò marginalmente, ma tratterò, perché credo che sia comunque il caso di parlarne, mi sono fatto anche un'idea, e come diceva il comico, condivido la mia idea e quindi la vorrei esporre anche a voi. Allora, di cosa stiamo parlando? Fase introduttiva, decreto legge 146, legge 215. Guardate, è molto importante chiarire che il primo intervento, il decreto legge 146, è un decreto legge. Allora, qualcuno potrebbe pensare, Fantin si è svegliato male. Ma che cosa significa il decreto legge 146? Il decreto legge è un atto di necessità ed urgenza. In questo caso il decreto legge 146 è decreto in materia fiscale. Fisco io, non ve ne parlo, perché se no mi deprimo. Ma all'interno del decreto legge in materia fiscale, c'è una parte sulla sicurezza sul lavoro. Che significa? Significa che l'attuale governo, dopo, lo dico, otto anni, nei quali non se ne è proprio parlato di sicurezza sul lavoro. E non lo dico perché c'è un dato oggettivo dei 20 provvedimenti di attuazione dell'81. Dal 2013 ad oggi sono stati fatti solo due. Che significa? Che non si ritiene una materia così importante. Lo dico alla politica, lo dico all'amministrazione. Nel 2021 abbiamo avuto un cambio di passo. Perché? Secondo me perché si è parlato di sicurezza sul lavoro. Vi faccio il nome di Luana Dorazio e tutti sappiamo che è l'operaia, che poi è morta, molto giovane, utilizzando un macchinario. Poi vedremo cosa dice la Procura della Repubblica Competente in materia. Non voglio parlare di questo, assolutamente. Però ricordo anche altri due episodi del 2021 dei quali si è parlato, il crollo della gru a Torino e la morte di Lorenzo, ragazzi in alternanza a scuola lavoro. Della quale addirittura il Presidente Mattarella ha parlato nel discorso di insediamento. Quindi questo significa che la materia che tutti noi amiamo, cioè la prevenzione degli infortuni sul lavoro e malattie professionali, è tornata d'attualità. Secondo me questa è una cosa positiva. Perché parlare di un argomento a livello politico significa che se ne occupa l'amministrazione, c'è un'attività di sensibilizzazione. E' molto importante che sia così. Poi se mi chiedete che cosa penso del decreto legge 146, la mia risposta è che è un provvedimento molto incentrato sul potenziamento delle sanzioni e che non ha assolutamente nulla di prevenzione degli infortuni sul lavoro e malattie professionali. Qui torno a quando facevo il dirigente al Ministero del Lavoro, non siamo mai riusciti al Ministero, e nemmeno mi sembra che il decreto legge 146 lo faccia, a introdurre elementi di prevenzione incentivanti. Non sarebbe male un credito di imposta per le misure di salute e sicurezza sul lavoro, considerando l'impatto che ha la salute e sicurezza sul lavoro in termini di vite umane, cioè anche dal punto di vista del costo sociale degli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Però questo è un tasto difficile da toccare. Ed è la mia personale opinione. Siccome l'ho scritto in un articolo, non potevo sconfessare il mio articolo. Però poi accanto al decreto legge 146 c'è la legge 215, e qui mi taccio, finisco la parte introduttiva. Perché il decreto legge deve essere convertito nei successivi 60 giorni. Altrimenti perde di efficacia sin dall'inizio. E vi racconto un episodio rapidissimo. C'è stato qualcuno che si è lamentato per il decreto legge 146. In particolare ci sono state delle dimostranze da parte delle regioni. Perché le ASL, organi di vigilanza competente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si sono sentite scavalcate dalla previsione del decreto legge 146 che come organo di vigilanza di tipo generale non fossero solo le ASL, ma anche l'Ispettorato Nazionale del Lavoro. È una rimostranza che comprendo, ma in realtà la volontà del governo non era quella di andare ad attaccare le regioni, perché le ASL sono incardinate o ATS, si chiamano anche ATS, per esempio in Lombardia si chiamano ATS. Non voleva il governo scavalcare diciamo così le regioni, ma voleva semplicemente moltiplicare il numero di ispettori che vanno a controllare nei luoghi di lavoro la salute e sicurezza sul lavoro. E così ha utilizzato il personale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Questa è la mia personale opinione. Potenziando però anche il potere di sospendere l'attività imprenditoriale, che è una cosa che impatta molto sulle aziende. Non so se Claudio sei d'accordo su questo. Sono assolutamente d'accordo ed è un elemento secondo me centrale anche in termini di prevenzione perché da come l'ho letto io il potenziamento dell'INL è un potenziamento anche da un punto di vista più tecnico che di polizia giudiziaria come era inteso in precedenza. Le assunzioni previste, i famosi 3.000 ispettori previsti nell'INL sono ispettori che hanno un taglio in parte molto più tecnico rispetto a quanto era in passato. Quindi questo spero abbia anche un riflesso sulla proposizione di quella gestione della sicurezza a cui facevi riferimento tu. Sì, anche se qualcuno mi ha fatto una battuta ha detto guardando il bando per i 1294 nuovi ispettori è troppo generico quindi si può entrare con la laurea in filosofia a parte che io dico che è razzista dire una cosa del genere per chi si laurea in filosofia ma il discorso che si deve fare e che hai ragione Claudio sono ispettori tecnici quindi vanno portati intanto portiamoli all'interno dell'ispettorato dopodiché stavolta ce ne hanno messi i soldi c'è un progetto di formazione di questo nuovo personale di affiancamento di questo personale perché evidentemente voi capite avere 1294 nuove unità poi arriveranno a 3000 come dicevi tu ma significa comunque formarle addestrarle mandarle sul campo in affiancamento degli ispettori già presenti e così possiamo avere una forza ispettiva competente perché non è importante il numero ma anche la competenza quindi comunque il disegno del governo è questo è un disegno di mandare più ispettori a controllare in via preventiva soprattutto non tanto quando c'è l'infortunio ma prima che ci sia l'infortunio andare nell'azienda di Lorenzo Fantini a dire scusa Fantini sono l'ispettore mi hai offerto il caffè ti ringrazio più di questo non consiglio di offrire che caffè poi al limite è un pranzo se si accettano un pranzo come liberalità ma non gli offrite di più un ispettore a fare una battuta però ti devo ti devo controllare il sistema di prevenzione perché è mio obbligo ma è soprattutto tuo interesse avere un sistema di prevenzione aziendale che funzioni quindi non dobbiamo leggere questo è qui chiudo non dobbiamo leggere il binomio decreto legge 146 legge 215 in maniera sbagliata è un segnale di interesse del governo forse troppo incentrato sull'aspetto ispettivo ma che poi ha una serie di spunti di riflessione interessanti soprattutto per quanto riguarda la valorizzazione della figura del preposto perché poi la legge 215 più che il decreto legge 146 non solo conferma le scelte quindi rimanda al mittente le accuse di aver modificato l'assetto istituzionale in senso negativo per le regioni poi ognuno può avere la sua idea al riguardo ma io non vedo perché le ase si debbano lamentare del fatto di avere altre persone che fanno l'ispezione anche perché c'è un coordinamento più presente rispetto a prima perché adesso la riunione di coordinamento è definita nei tempi e nei modi in maniera più precisa rispetto a prima quindi faccio abbastanza fatica a comprendere no ecco questo per dire all'interno del binomio decreto legge 146 legge 215 è stato previsto la valorizzazione dei comitati pubblici nei quali si fa coordinamento dell'attività di vigilanza e questo permette una battuta un po' singolare cioè il legislatore perché queste cose erano già previste nell'81 ma non sono state fatte perché le amministrazioni non le hanno fatte e allora siamo al punto di dover rifare la legge perché le amministrazioni non attrano la legge che è una cosa che francamente mi sembra un pochettino ridicola però detto questo e questo è io sono contento se poi ci sarà il coordinamento che significa che ci si aspetta che quando si va in un'azienda non ci vada anche l'altro organo di vigilanza che se si fa la vigilanza in un settore lo fa una la ASL e non lo fa l'Ispettorato Nazionale del Lavoro perché se no siamo finiti in qualche regione già succede perché il coordinamento in qualche regione italiana funziona ma in altre regioni non sanno nemmeno che cosa sia il coordinamento quindi è una cosa che comunque la cosa che sto scrivendo come direttore dei quaderni della sicurezza di Iphos penso che lo sappiate sono anche direttore dei quaderni della sicurezza di Iphos sto scrivendo l'editoriale del prossimo numero che uscirà però tra un pari di mesi in cui sottolineo che una cosa strana che lo dico io cioè la legge non modifica la realtà cioè pensare che fatta la legge sia stata fatta la prevenzione significa non aver capito che cos'è la prevenzione quindi una legge può aiutare ma poi sono le azioni pubbliche private e dei singoli che fanno la sicurezza sul lavoro finita questa introduzione un pochettino quasi liturgica direi che possiamo andare ai temi invece più di attualità cioè che cosa c'è di impatto nella novità che come ha detto Vicky in realtà ha cambiato l'81 del 2008 e le modifiche dell'81 del 2008 sono le più massicce dal 2009 ad oggi cioè quindi non è una riforma assolutamente perché sono in continuità ma sicuramente sono modifiche impattanti allora velocissimamente modifica più impattante ne voglio parlare subito così così l'incubo me lo tolgo almeno per stamattina l'obbligo di individuazione del preposto cioè la legge 215 è introdotto all'interno degli obblighi delegabili quindi non è un obbligo solo a carico del datore di lavoro ma è un obbligo anche a carico del dirigente l'individuazione del preposto per lo svolgimento dell'attività di vigilanza quindi al che si è scatenato l'inferno cioè perché che cosa si intende per obbligo di individuazione io voglio essere sintetico anticipando che nelle prossime ore uscirà una relazione parlamentare in cui ci spiegano che cosa dobbiamo intendere per individuazione del preposto quindi ecco a questo punto io potrei fermarmi e dire leggete la relazione è finito invece ci voglio mettere la faccia come faccio sempre perché per spiegare come leggo io la norma che poi non significa che sia quello che poi è perché le norme nuove vanno comunque interpretate e vi spiego che quella norma che ho l'obbligo di individuazione del preposto viene dall'esperienza di aziende molto grandi grandi committenze che da sempre hanno sono state chiare a dire ai propri lavoratori chi è il preposto noi sappiamo che il preposto è una figura di fatto allora faccio mi rubo una battuta che ho trovato su uno diciamo così delle sedi internet nelle quali poi partecipo dove sono discussioni ormai si lavora per tutto anche su facebook è anche interessante confrontarsi preposto è chi il preposto fa come nel film e quindi questo c'è un copyright che è di piva e quindi lo cito ma è giusto ma scusate ma non è non possiamo mettere in discussione l'idea che il preposto sia un ruolo non formale ma sostanziale perché sono 40 anni che è così e la legge 215 non ha detto nulla su questo non è che ha detto adesso faccio due tre battute e poi se volete interveniamo e se ci sono domande me lo fate sapere se qualcuno collegato farà domande allora non possiamo mettere in discussione che il preposto sovrintende e vigila su un gruppo di lavoratori perché lo dice l'articolo 2 dell'81 quindi la domanda che ogni tanto mi viene fatta e che mi genera prurito esiste il preposto di se stesso se la norma ti dice che devi sovrintendere su un gruppo di lavoratori il plurale significa che tu non sovrintendi su te stesso quindi cominciamo a dare una risposta schema marzulliano fatti una domanda datti una risposta ok 2 è prevista la presenza in interrotta del preposto la legge 215 prevede la presenza in interrotta del preposto la giurisprudenza prevede la presenza in interrotta del preposto no quindi non è previsto vero pure il contrario il preposto a cosa serve il preposto serve per evitare che qualcuno faccia qualcosa di sciagurato cioè che si diciamo applichi la legge di marfi se qualcuno può fare una cosa stupida la farà quindi la prima cosa che fa il preposto non la sola è controllare un gruppo di lavoratori perché è una persona che all'interno dell'organizzazione aziendale oltre a lavorare fa questo quindi capo turno di una metalmeccanica capo ufficio lo sanno i capo ufficio che sono preposti io penso che non molti capo ufficio sappiano che sono preposti tre il capo cantiere quindi il ruolo del preposto è un ruolo di fatto noi lo sappiamo non è cambiato questo cos'è cambiato? c'è un obbligo di individuazione formale quindi se il preposto dall'organizzazione Vicky l'ha detto la norma non è che si applicava l'anno scorso si comincia ad applicare successivamente la pubblicazione a essere precisi perché poi la legge del 17 è stata pubblicata il 20 è entrata in vigore il 21 quindi comunque alla fine di dicembre prima non c'era l'obbligo di individuazione ma le aziende più grandi che cosa hanno sempre fatto e quelle più attenti alla sicurezza hanno individuato chi svolge la funzione di preposto e come l'hanno fatto nel DVR per esempio e ricordo a tutti voi presenti e collegati che l'articolo 28 dell'81 prevede che nel DVR ci debba essere l'indicazione dei ruoli dell'organizzazione aziendale quindi è già obbligatorio cioè scusate non è che ci siamo svegliati abbiamo detto che il preposto deve essere individuato oppure sono stati individuati i preposti in questo modo esempio del Ministero del Lavoro tutti i capo ufficio sono preposti ma secondo voi questa individuazione non è valida ai fini della nuova norma? la mia personale opinione è assolutamente sì anche perché come è stato scritto online se il legislatore avesse voluto l'obbligo di nomina avrebbe usato il verbo nominare e non individuare e guardate che quando si scrivono le leggi i verbi sono importanti quindi la mia personale opinione chiudo è che qualsiasi strumento sia idoneo a dire che l'azienda ha la catena dei preposti l'ha individuato l'ha individuata chiedo scusa è conforme alla nuova normativa quindi quello che dobbiamo fare noi come operatori è analizzare quello che abbiamo in azienda se abbiamo una chiara individuazione non dobbiamo fare nulla magari programmiamo nei prossimi incontri formativi una spiegazione al preposto che la norma è cambiata perché la norma è anche cambiata come contenuti poi due cose su questo ve lo dico ve li dico però siamo già ad impienti rispetto alla norma non siamo tenuti a rifare le lettere forse non sono stato chiaro se poi decidiamo che abbiamo qualche carenza e qualcuno che fa il preposto non l'abbiamo individuato ovviamente lo dobbiamo individuare perché altrimenti abbiamo un buco della nostra organizzazione aziendale questa è la mia personale opinione sull'individuazione del preposto quindi ci richiede la norma un'attività di analisi di quello che abbiamo eventualmente di integrazione di quello che abbiamo e va da sé che la norma non lo dice la disposizione nuova non lo dice ma è ovvio una volta che abbiamo individuato i preposti li dobbiamo formare come preposti e questo è un punto importante perché altrimenti arriva l'ispettore e dice salve mi fai vedere l'individuazione dei preposti ti presenti tutto con la tua bella lettera perché hai deciso di fare la nomina sì e li hai formati no ho fatto l'individuazione adesso devo fare la formazione benissimo ti sanziono perché la norma è entrata in vigore del 21 quindi l'ispettore potrebbe titolo di dire non mi hai formato il preposto quindi individuazione è formazione quindi va tutto messo insieme in un sistema altrimenti prendiamo un pezzo del sistema e non lo prendiamo tutto questo per fare una serie ultima cosa la disposizione nuova prevede la possibilità di un emolumento per il preposto secondo me qui succederà l'inferno c'è un diritto del preposto di avere l'emolumento no perché lo dovete leggere bene si prevede che gli accordi e i contratti collettivi possono discutere norma provocatoria secondo me provocatoria perché mi aspetto che la discussione possa essere parecchio accesa e poi nei corsi di formazione io personalmente perderò un po' la faccia perché con i preposti con i quali ho fatto i corsi di formazione da sempre ho detto che non c'entra niente il denaro col fare il preposto quindi un pochettino diranno a Fantini ha sbagliato è una provocazione che è stata lanciata alle parti sociali perché ne discutano e io vi do una chiave di lettura perché non discutere di una possibile come beneficio aziendale assicurazione per il preposto perché lì si parla di un emolumento ma magari al preposto potrebbe far piacere che l'azienda possa dare un'assicurazione di copertura delle spese legali nel caso di responsabilità che non è obbligatorio ovviamente ma perché si deve sempre parlare di denaro è anche un bel segnale quello di dire io ti sto dietro se dovessi nell'esercizio delle tue funzioni avere una ed è anche deducibile fiscalmente ci tengo a precisare che non ho partecipazioni in alcune società è un'idea che mi è venuta facendomi la barba stamattina poi il mio neurone durante la giornata decade quindi per il momento prendetevi questo come concetto fondamentale io ti volevo fare una domanda Lorenzo come leggi la maggior puntualizzazione che abbiamo nell'aggiornamento normativo dell'individuazione del preposto delle aziende committenti rispetto a una giurisprudenza in precedenza che non era così precisa su questo aspetto quindi non c'era un obbligo formale di comunicare la figura del preposto dell'azienda che viene da me a fare un'attività di manutenzione pulizia o quello che sia allora la vedo sarò deviato perché conosco come nasce la norma e chi l'ha scritta poi non ve lo dirò mai però nasce dall'esperienza di chi questa normativa l'ha applicata all'interno di cantieri complessi petrolchimici grande committenze dove il committente numero uno il grande cavo il committente sinceramente ha sempre voluto dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici la chiara indicazione di chi svolge la funzione di preposto quindi chi ha scritto la norma ha pensato a quel modello perché perché è vero che il preposto non deve essere sempre fisicamente presente però nelle grandi committenze è considerata una misura di sicurezza l'obbligo contrattuale seguitemi non legale ma contrattuale ti dico che uno dei miei controlla i miei e ti comunico anche chi è perché la grande committenza considera la presenza del preposto una situazione di sicurezza aggiunta esattamente e quindi chiudo contrattualmente addirittura ti dice deve esserci sempre quindi da un punto di vista contrattuale spesso la presenza del preposto viene non è obbligatoria giuridicamente attenzione è obbligatoria nei rapporti contrattuali cioè tu ti impegni a darmi uno dei tuoi che controlla i tuoi per quale motivo ve lo devo spiegare perché è un appalto quindi il committente non deve controllare i lavoratori dell'appaltatore se no fa un errore nell'appalto il committente controlla l'esecuzione del lavoro da parte dell'impresa esterna che ha scelto in quanto ditta specializzata infatti c'è una cosa che si chiama valutazione dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice e nella mia mente di avvocato deviato mi viene in mente che l'articolo 1655 del codice civile appalti dice che nel caso dell'attività appaltata il rischio dell'attività appaltata è a carico dell'appaltatore quindi avere un preposto che controlla i lavoratori della ditta terza significa che il committente non si deve preoccupare di controllare i lavoratori della ditta terza avete capito? su questo aspetto adesso non è direttamente legato alla figura del preposto però a me ha colpito abbastanza la puntualizzazione che è stata fatta rispetto alla mancata sicurezza dell'azienda appaltante e alla segnalazione che viene fatta ad ANAC per tutto ciò che riguarda le forniture pubbliche nel senso che se tu vieni da me facciamo finta io sono un'azienda pubblica vieni da me a offrirmi un servizio e durante la funzione di quel servizio ci sono delle mancanze della sicurezza che provocano un incidente una malattia professionale o quello che sia questo tipo di comportamento doloso viene segnalato ad ANAC che può in qualche modo pregiudicare poi le future attività sì perché io sono stato un po' un po' veloce perché chiaramente non è che posso stare qui fino alle due alle quattordici però bisogna anche dirle le cose il committente chiaramente cerca di non occuparsi dello svolgimento concreto del lavoro da parte dei dipendenti dell'appaltatore del subappaltatore perché come dice la giurisprudenza altrimenti si ingerisce nel responsabile però allo stesso tempo non è che non abbia obblighi Claudio cioè perché se io sono committente ho gli obblighi almeno dell'articolo 26 cioè scelta dell'impresa che fa il lavoro valutazione di unità tecnico-professionale quindi devo controllare se ha formazione eccetera non solo come prevede l'articolo 26 con l'iscrizione nella camera di commercio chiaro no dobbiamo avere un sistema di selezione di controllo due ma dove lavori da me quindi ti devo dire i rischi che corri quando sei da me scambio di informazioni articolo 26,1 lettera B scusate ma quando uno poi alla fine qualcosa si ricorda articolo 26,2 misure di cooperazione e coordinamento lavori da me dobbiamo metterci d'accordo sulle misure di cooperazione e coordinamento per evitare interferenze duvri costi della sicurezza quindi ci sta che gli obblighi possano non essere ad impiuti e a quel punto che all'ANAC arrivi la comunicazione che il committente non abbia rispettato le disposizioni di sicurezza esatto secondo me positivo il fatto che ci sia un'evidenza di questo mentre prima non era così evidente tu non lo rispettavi ma era soltanto una questione tra tre fra committente e azienda quindi questo secondo me è un aspetto ah poi una cosa comunicazione di servizio l'articolo 37,7 terra relativo alla formazione del preposto su cui ci siamo un po' scervellati io anche mi sono scervellato perché è una norma non scritta particolarmente bene per cui si può leggere in un modo piuttosto che in un altro che prevede che il preposto abbia la formazione solo in presenza esclusivamente in presenza senza dire che cosa si intende per presenza e con cadenza biennale non è in vigore perché è collegato all'uscita di un accordo che dovrebbe uscire entro il 30 giugno 2022 questo perché so che molti RSPP si sono chiesti giustamente se dovere cominciare già a fare l'aggiornamento del preposto essendo cambiata la cadenza da quinquennale a biennale quindi sono cominciati i calcoli da quando la calcolo eccetera no è uscita una circolare non lo dico io è uscita una circolare la numero 1 del 16 febbraio 2022 per cui per il momento dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro che ha detto ai suoi ispettori su questo non possiamo fare sanzioni chiaro quindi la norma per l'Ispettorato Nazionale del Lavoro firmato il direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro il cui nome mi fa sentire male perché si chiama come un giocatore di quell'altra squadra di Roma che io non cito ovviamente però vi ragioni e si chiama Bruno Giordano ogni volta mi sento male quando lo dico che è persona di grandissima competenza ma quel nome purtroppo è quello che è e mi evoca brutti ricordi ma ha scritto chiaramente Bruno Giordano ai suoi ispettori noi la norma non la consideriamo vigente perché nella norma c'è il richiamo a questo accordo che non è ancora uscito mi seguite quindi se ci lo dico perché dal punto di vista operativo impatta dobbiamo continuare a fare gli aggiornamenti certo ve l'ho detto io anzi se io fossi qualcuno che decide metterei in cantiere presto una o due ore di aggiornamento sulla nuova norma ai preposti ma consideriamola nel quinquennio almeno sei ore con le modalità anche a distanza in e-learning che sono possibili oggi perché altrimenti non sapete perché perché poi l'accordo ci deve dire come si calcola il biennio quante ore si devono fare nel biennio qual è il regime transitorio e perché ce lo deve dire l'accordo che tra l'altro non è vincolante nella data d'uscita da come ahimè no cioè la previsione stiamo andando un po' a braccio spero che mi sentiate voglio dire che ci capiate se non ci capite ci fate le domande che vi devo dire è così stamattina e l'accordo ecco chi ha scritto quella norma lì secondo me ha fatto bene no perché poi qualcuno ride perché sa chi l'ha scritta quella norma lì perché poi cosa succede che le norme le scrive il Parlamento ma si rivolge spesso a qualcuno che questo lavoro ha fatto e allora la modifica dell'articolo 37,2 a cosa serve la modifica dell'articolo 37,2 serve a migliorare il sistema della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro perché ad oggi il sistema è complicato i corsi si fanno con regole diverse abbiamo 5 diversi accordi quindi fare un unico accordo è una misura di semplificazione e miglioramento quindi però siccome la materia della formazione e della sicurezza è materia ripartita tra lo Stato e le Regioni si è giustamente rinviato di un accordo che deve uscire entro il 30 giugno ma la risposta è che il termine non è perentorio e quindi rischiamo che l'accordo esca dopo il 30 giugno però le notizie che ho io sono che ci si sta già lavorando e posso anche dire che sicuramente conterrà l'accordo oltre alla regolamentazione della formazione del preposto secondo le nuove regole anche la regolamentazione della videoconferenza perché questo è assolutamente importante perché la domanda una delle tante domande che si ripetono per i miei clienti è scusa Lorenzo dopo il 31 marzo perché fino al 31 marzo noi abbiamo la copertura dei DPCM che dicono che la formazione la formazione si può fare a distanza esatto il Ministero del Lavoro lo ha chiarito in una nota non c'era bisogno della nota del Ministero del Lavoro ma per avere autorevolezza il 28 aprile 2020 ha chiarito una cosa ovvia che significa che fino al termine del periodo di emergenza pandemica poi vi spiego perché ho detto pandemica lo dico subito si può utilizzare la videoconferenza per tutte le attività formative che si fanno in presenza salvo aggiungo io che non sia addestramento perché l'addestramento in videoconferenza non si può fare poi c'è la Fantini che ha detto ma dove sta il fondamento leggete il nuovo articolo 37,5 dell'81 perché questa è una cosa che pochi hanno sottolineato la norma generale in materia di addestramento non sta nella parte relativa ai DPR attrezzature di lavoro di cui poi parliamo perché sennò facciamo un discorso troppo generale e poi ce ne parlerai tu ma sta nell'articolo 37,5 che adesso è cambiato e specifica che l'addestramento consiste nella prova pratica nell'esercitazione vi risulta che la prova pratica si possa fare in videoconferenza a me pare di no poi se voi siete convinti del contrario andatelo a spiegare a un magistrato che avete fatto la prova pratica in videoconferenza con un sistema di videoconferenza come quello attuale perché magari tra due anni con la realtà virtuale potremmo farlo pure in videoconferenza come il simulatore di volo io faccio sempre l'esempio del simulatore di volo vi risulta che i corsi di formazione dei piloti li facciano in presenza cioè schiantiamo l'aereo e vediamo che succede però dobbiamo avere un simulatore e vi risulta che i vari sistemi che usiamo che abbiamo usato sono in grado di riprodurre un ambiente confinato ci si sta lavorando ma non siamo ancora arrivati a questo questo io dico quindi quel termine purtroppo diciamo non è però la videoconferenza sarà regolata e se qualcuno vuole avere un'idea di come sarà regolata è molto semplice c'è un documento delle regioni che è passato in commissione consultiva in cui si spiega ciò che le regioni ritengono essere videoconferenza legittima adesso è un documento quindi è un documento ufficiale sarà sicuramente inserito all'interno dell'accordo non è ancora stato pubblicizzato abbiamo comunque il problema perché dopo il 31 marzo non avremo una copertura per la videoconferenza la mia personale opinione per ragioni che non faccio in tempo a spiegare perché altrimenti se no prendo tutto il tempo è che anche fuori dal periodo emergenziale se io organizzo una videoconferenza come soggetto formatore controllando le persone collegate quindi accendete il video le cose che abbiamo fatto in questi due anni così vediamo l'identità le persone possono fare la domanda possono accedere ai documenti c'è una verifica finale di apprendimento c'è la tracciatura ma scusate è equivalente alla presenza fisica ci si fanno le riunioni del consiglio dell'ONU non possiamo fare i corsi di formazione in videoconferenza a queste condizioni speriamo che ci sia è stata fatta una richiesta al ministero del lavoro all'ispettorato nazionale del lavoro per chiedere che esca una nota che lo dica sarebbe ideale che uscisse in tempo l'accordo in conferenza stato-regione così almeno abbiamo una pronuncia ufficiale dei soggetti che fanno poi vigilanza tutti e due perché i soggetti che fanno vigilanza sono l'ispettorato ma anche le ASL e mentre l'ispettorato ha il capo dell'ispettorato che fa le circolari chi è il capo delle regioni che fa le circolari perché se qualcuno mi sa rispondere esiste una struttura nazionale che fa le circolari che indirizzano le ASL lo dico io no quindi le ASL più dirigenti hanno i direttori che fanno le circolari mai vista le circolari qualcuno poi dice ah Fantini ce l'ha con le regioni non ce l'ho con le regioni dico che a livello nazionale non c'è un coordinamento nazionale che possa fare una circolare vincolante per gli ispettori solo questo dico esatto poi andiamo sull'addestramento la rigoda del dp andiamo su sulla parte dp si si poi lo vediamo anche nella parte dopo intanto che arrivano le domande te ne faccio una io Lorenzo come leggi la puntualizzazione un po' più precisa per quello che riguarda il ruolo del preposto visto che di questo stiamo parlando rispetto all'attività di vigilanza e sospensione dell'attività lavorativa sull'uso delle attrezzature di sicurezza compresi dpi come indicato nell'aggiornamento si la norma non va a snaturare il ruolo del preposto ma va prendendo l'esperienza come riferimento all'esperienza delle grandi committenze secondo me puntualizza meglio l'escalation delle attività che vi richiesta il preposto cercherò di essere sintetico poi se poi volete andate a leggere il nuovo articolo 29 comma 1 lettera A e lettera comma 1 lettera Fbis che è stato introdotto cosa si prevede si prevedono due cose uno se il preposto la faccio proprio colloquiale il preposto governa altri lavoratori cioè oltre a lavorare non è un vigilante non è che noi l'altra cosa che mi chiedo ma il preposto deve anche lavorare no ma non è una domanda stupida è una domanda pertinente perché se tu ci fai e dici vabbè se ti fai la domanda ti metti a ridere poi invece ci ragioni e non è una domanda stupida perché potrebbe essere che il preposto debba fare solo quello cioè se il nostro legislatore avrebbe avuto anche il titolo di dire quando c'è bisogno di una vigilanza il vigilante fa solo il vigilante perché le persone sbagliano e 7 infortuni su 10 derivano a comportamenti pericolosi ma il nostro legislatore non lo ha detto quindi il preposto è un lavoratore che fa anche il preposto ok e allora che cosa ci si aspetta da un preposto ci si aspetta che se trova un suo collega privo di dp ovviamente 3m distribuito da unicum evidente no? questo è così perché se no che stiamo a fare qua e scherzi a parte se trovi un lavoratore che deve usare un filtrante facciale tuo collega e non lo sta facendo scusa ma dov'è il tuo filtrante facciale ma perché te lo sei tolto e se riesco a ottenere il risultato il preposto ha finito il suo lavoro perché la nuova norma parla di intervento sulle non conformità comportamentali anche il linguaggio è cambiato cioè io ti vado a dare indicazioni la norma dice indicazioni sulle non conformità comportamentali mettiti la mascherina tieniti a distanza di un metro e se riesco a ottenere il risultato siamo a posto dopo il punto c'è scritto in caso di inosservanza o di persistenza del comportamento interrompere l'attività del lavoratore e questa è nuova esattamente cioè ci dice qualcosa che già noi che facevamo i corsi avevamo detto al preposto quando te lo chiedevano dice ma io posso fermare il collega no tu devi fermare il collega gli avevamo sempre detto e ora ce lo dice la legge informando i superiori attenzione interrompere il lavoratore non significa ti caccio ti licenzio significa ti fermo fin tanto che non ti metti in sicurezza però questa cosa sappi che siccome non è la prima volta che la fai la devo segnalare a chi di dovere la segnalazione che significa che parte la lettera di contestazione disciplinare no in un sistema di sicurezza moderno significa magari che dopo due ore fai una riunione di coordinamento in cui dici a tutti i lavoratori compreso lo sciagurato ricordati che è importante mettere il filtrante facciale per questo questo e quest'altro motivo come diceva un famoso comico però questo presuppone anche una maggior conoscenza della parte diciamo così più tecnica anche dell'uso dell'attrezzatura di sicurezza di DPI più approfondita probabilmente di quella che ha normalmente il lavoratore spero che questo sia anche riflesso nella formazione nella nuova formazione non c'è dubbio che le cose vanno collegate sono d'accordo con te cioè cogliamolo questa opportunità un'altra cosa che deve fare il preposto e poi mi taccio lettera Fbis in caso di deficienze di mezzi e attrezzature quindi anche se io ho una deficienza del DPI per esempio e questo è importante perché io non faccio solo il controllore di persone ma anche il controllore di luoghi di lavoro perché può darsi che io debba segnalare al mio datore di lavoro che l'attrezzatura non vogliamo parlare del DPI che l'attrezzatura di lavoro si è bloccata ma scusate una persona che fa il preposto che trova un'attrezzatura di lavoro bloccata che cosa deve fare ma non pensiamo alla norma cosa deve fare se non è in grado di ripararla chiamo la manutenzione o no va bene la novità sta anche qui che se necessario interrompe l'attività e guardate che poi è stata scritta bene la norma perché nell'articolo 18 nuovo c'è scritto che il preposto non può subire pregiudizio per lo svolgimento della sua attività sapete che significa che se sospende l'attività lavorativa il datore di lavoro non gli può dire nulla anzi se volete la mia personale opinione un preposto che fa bene il suo lavoro e sospende l'attività o del lavoratore o lavorativa avrà un grazie dal datore di lavoro concordo perfettamente qui una domanda sorge spontanea ma se il preposto questo non lo fa la domanda è una domanda pertinente la risposta è semplice siccome il preposto non è che deve fare tutto il preposto nel sistema aziendale infatti si dice quando tu puoi modificare il comportamento modifichi il comportamento quando puoi segnalare la condizione di pericolo segnali la condizione di pericolo ma perché? perché ci sono delle cose che tu non puoi fare quindi la tua segnalazione esclude la tua responsabilità se non hai il potere ma se hai il potere come in tutti i casi diciamo di posizioni di garanzia usando un termine tecnico a quel punto rischi in caso di infortunio di essere indagato per omicidio colposo oppure per lesioni ok? quindi lo dobbiamo dire al preposto non fai tutto tu ma la tua parte di attività ha una rigaduta potenzialmente penalistica ma non è dalla legge 215 che è così attenzione è da sempre che è così e qui a questo punto qualcuno chiede cioè suggerisci quello che hai sempre fatto per l'RSPP che questo venga tracciato e venga scritto? io suggerisco di sì perché lo suggerisco nell'interesse dell'azienda e del preposto mi spiego sistemi più evoluti quali possono essere? quelli soprattutto per chi ha i modelli di organizzazione e gestione i sistemi che permettono di tracciare gli interventi di vigilanza del preposto e io ti dico una cosa strana questi sistemi di tracciamento potrebbero anche non essere cartacei perché potrebbero anche essere dei sistemi informatizzati dei tracciati o delle app per dire per fare un esempio su qualcoso prodotti che ci sono cominciano a essere l'importante perché poi la legge non prevede una formalizzazione di questi controlli chi fa i modelli di gestione ha già le checklist di controllo a cosa serve la checklist di controllo? per dire al preposto che io la vigilanza l'ho fatta sui vari item come dicono quelli bravi allora uso dei dp poi i checklist non le dovete fare di 50 pagine se no nessuno ve le compila pure voi quando ci arriva avete due minuti per il questionario se già ce n'hai 30 secondi è un miracolo e allora facciamo item 4-5 punti uso del dp rispetto alle procedure va tutto bene sì no sì no e questo permette al preposto di dimostrare di aver adempiuto all'obbligo di vigilanza perché è vero che non deve essere sempre presente ma quando è presente lo deve fare questo dice la giurisprudenza all'azienda sapete cosa serve all'azienda? per il datore di lavoro e il dirigente di dimostrare che vigilano sul preposto quindi la mia risposta alla tua domanda è altamente preferibile che queste attività di vigilanza in qualche modo vengano documentate tracciate anche non in maniera cartacea ma attraverso un sistema che possa essere in qualche modo concretamente utilizzabile ok? e qua faccio io uno spot per Metti Lorenzo ricordiamoci che abbiamo una norma uni che si basa sul WCM World Class Manufacturing che è una metodologia che si utilizza nel mondo automobilistico legata però alla gestione della sicurezza in questa norma uni ci sono indicate anche le modalità per registrare e segnalare queste mancanze o queste si fa fatica all'inizio in questi casi no? Vichi però si fa fatica perché all'inizio fai fatica a tirare sul sistema ma una volta che ce l'hai hai spiegato ai preposti quanto è importante pensa che nell'esperienza che ho io in qualche azienda i preposti che all'inizio non erano non volano farlo hanno capito che è anche un'occasione per loro di dimostrare che la vigilanza fanno e poi l'effetto è a catena perché immaginiamo una checklist di controllo molto semplice dei preposti con cadenza mensile agganciata a una checklist di controllo sulle situazioni non periodiche ma se succede qualcosa quindi gli dai due strumenti di controllo uno periodico e uno quando succede qualcosa il preposto semplicemente lo compila e lo manda al dirigente nella checklist di controllo periodica c'è scritta che qualche lavoratore non Lorenzo non usa il dp la palla chi passa al dirigente il quale dirà ah benissimo facciamo una riunione di coordinamento rimandiamola circolare sull'uso delle mascherine facciamo oppure mi collego il servizio di prevenzione e protezione possiamo fare una mezz'ora di videoconferenza su questo questo non è solo utile a livello prevenzionistico moderno perché la prevenzione moderna si fa così non si fa col bastone chiaro chiaro questo per me è chiaro non so se a qualcuno è chiaro e poi serve anche per dimostrare che il preposto quello che doveva fare era fatto perché il suo obbligo non è modificare le strutture eccetera ma controllare le persone segnalare situazioni di pericolo e adesso sappiamo nelle situazioni di grave pericolo interrompere ma solo se c'è grave pericolo interrompere l'attività del lavoratore e attemporaneamente l'attività quindi è un vantaggio per tutti se riusciamo a tirar su questo sistema perché poi alla fine è chiaro che il preposto si libera delle sue responsabilità il dirigente chiaramente il dirigente se deve fare deve fare lui che non è un la palla non è di nessuno se la palla non è di nessuno qualcuno segna dell'avversario in questo caso l'avversario è l'infortunio quindi attenzione è importante che qualcuno sulla palla ci vada che la passa a chi deve poi giocarla e che poi si giochi correttamente ci sono un sacco di domande relative alla nomina all'individuazione io già ti fermo perché verbo individuare non è nominare quindi non siamo obbligati a nominare il preposto l'azienda fa la sua analisi organizzativa verifica se l'individuazione è già stata fatta a mio parere un'azienda che abbia già fatto un'individuazione che possa essere poi portata ad un ad un ispettore dicendo noi ce l'abbiamo non la deve rifare deve valutare se la deve integrare come ho detto prima e magari una lettera di comunicazione ai preposti non sarebbe una cosa sbagliata ne ho già scritte tante in queste ore insomma in cui si dice le ricordo che lei che è già stato individuato come preposto adesso c'è stato intervento normativo non è cambiato il suo ruolo però presto le daremo comunicazione nell'attività formativa punto oppure se gli volete rifare la nomina o è un preposto di nuova individuazione nuova nel senso che magari vi siete accorti che c'è qualcuno che non era stato individuato ed è preposto di fatto ecco io mi aspetterei questo dopo la norma che se arriva l'ispettore non trovi nessun preposto di fatto perché se l'ispettore trova un preposto non individuato vi fa la sanzione perché non è stato individuato quindi se hai fatto bene questa analisi dell'organizzazione aziendale magari ti rimangono scoperti 3-4 posizioni 5-6 dipende perché hai fatto una nuova analisi e a lì potresti fare la nomina ok se fai la nomina ovviamente dicevi mettere la norma nuova perché la lettera al preposto non è una delega anche questa è una domanda che spesso vi fanno ma è una delega ma no perché il motivo principale è perché l'articolo 16 delega di funzione dice che la delega la fa il datore di lavoro innanzitutto e di solito la fa i dirigenti che ha senso una delega al preposto perché l'articolo 16 prevede il potere di spesa vi risulti che il preposto è il potere di spesa quindi è una nomina quindi è una lettera in cui si scrive le ricordo vi ricordate Troisi e Benigni ricordati che devi morire ricordati io ti ricordo che tu non è che devi morire tu sei preposto anzi devi vivere devi far vivere quindi ti ricordo che le tue mansioni si portano dietro la responsabilità del preposto e la legge è l'articolo 19 nuovo ovviamente non gli mettete l'articolo 19 è vecchio firmato la invito a rendere la lettera per l'accettazione domanda posso rifiutare la lettera si tu rifiuti la lettera ma io poi alla fine devo essere d'accordo io d'attore di lavoro perché essendo tu preposto per le mansioni che fai se tu rifiuti l'accettazione torni a fare il lavoratore e si può fare che se vai a tornare indietro il lavoratore nella sua posizione lavorativa no perché il diritto del lavoro vi dice che il lavoratore non può tornare indietro quindi il preposto che rifiuta la lettera non ha capito niente ed è un problema perché tu di fronte è una persona che ha un problema culturale qui si apre uno scenario apocalittico esatto e quindi sul quale non voglio andare perché insomma siamo capiti e sui documenti aziendali dove lo facciamo comparire questo preposto per come la vedo io ma è la mia personale opinione poi leggerete questa relazione diciamo parlamentare vedrete che stranamente mi insomiglia un po' a quello che dico io per me qualsiasi documento è utile purché sia chiara l'identificazione identificazione non nomina quindi alla fine potrebbe essere l'organigramma aziendale per esempio nell'organigramma aziendale dico tutti i capoturno dell'officina sono preposti così non li devo neanche indicare per nome e cognome ed è una norma dinamica non la devo riscrivere ogni volta devo avere cura che quando cambia entra un nuovo capoturno io gli devo far fare il corso ma questo ha a che fare con le procedure non ha a che fare con il documento potrebbe essere il DVR potrebbe essere una circolare aziendale e potrebbe essere una serie di lettere di nomina che sono quelle che ti blindano perché se tu fai la lettera al singolo preposto è preferibile fare la lettera questo posso dire però c'è anche un aspetto organizzativo cioè magari fare 80 lettere 90 lettere potrebbe essere anche eccessivo non è richiesto dalla norma la norma non dice nomina dice designazione tutte le modalità che ti permettono di dimostrare per il fatto della designazione per me sono valide molte delle aziende con cui lavoro io hanno fatto sia la designazione che la nomina cioè le hanno identificate in sede di DVR organigramma aziendale e comunque le hanno fatto la lettera ok quindi questa è la mia risposta non necessariamente le dobbiamo fare la lettera la norma non dice che dobbiamo fare le tre di nomina altrimenti avrebbe usato il verbo nominare però questa è la mia personale opinione ci sono un sacco di altre domande ma ci sono anche un sacco di altri argomenti quindi vogliamo andare sull'addestramento se vogliamo andare sull'addestramento visto che comunque sì allora nelle mie slide troverete il fondamento giuridico dell'importanza dell'utilizzo del DPI in particolare e quindi io adesso facendo felice il mio collega che mi dice da almeno dieci anni prendendomi in giro che se io non cito almeno un paio di volte al giorno l'articolo 2087 non sono Lorenzo Fantini citerò l'articolo 2087 del codice civile anche oggi così la mia giornata è serena ed è perché perché poi devo dire che certe volte è anche bello avere ragione non è che uno ha sempre ragione però quando ha ragione almeno un pochettino ti consoli l'ho sempre ritenuto l'articolo 2087 il famoso principio della massima sicurezza tecnologicamente possibile fondamentale in materia di sicurezza sul lavoro ancora prima in materia di diritto del lavoro l'azienda può fare impresa anzi deve fare profitto e se si tratta di un'azienda pubblica produce servizi pubblici e questo è consentito beh perfetto andate voi a fare cose bravi non ho dovuto fare nemmeno io anzi però adesso vi mando un po' indietro così leggete la norma eccola qua che è una norma un evergreen perché praticamente per ogni problema di sicurezza ci dice che l'azienda deve rispettare lo stato dell'arte problema soluzione poi nelle slide non c'è bisogno di andare avanti per il covid qual è lo stato dell'arte? i protocolli c'è scritto addirittura nell'articolo 29b della legge 40 del 2020 scudo penale se c'è un contagio da covid addirittura se l'INA lo riconosce come contagio da covid l'azienda non ha responsabilità se ha adottato i protocolli quindi la responsabilità dell'azienda non è impedire l'evento e questo la giurisprudenza più recente lo dice chiaramente esiste il rischio zero? no questo ve lo devo far vedere perché poi siccome abbiamo un'impegnativa verifica finale di apprendimento potrebbe darsi che questa cosa poi magari ve la chiedo non ho detto ma esiste il rischio questa è la norma l'articolo 2087 come si interpreta per il covid l'azienda non deve impedire il contagio altrimenti sarebbe dio vi risulta che sia possibile impedire il contagio all'evento ma adottare le misure per ridurre il rischio perché la giurisprudenza più recente dice che il rischio zero non esiste l'hanno scoperto che il rischio zero non esiste ok? se si può eliminare il rischio si elimina ma vi pare che un'impresa metallurgica possa evitare il rischio di lavorare il ferro e allora però devi ridurlo e lo riduci in base a che cosa? principio della massima sicurezza tecnologicamente possibile problema soluzione e qual è la soluzione che l'azienda deve adottare? torno un attimo indietro lo stato dell'arte cioè per quel problema qual è lo stato dell'arte? quindi se io ho un problema che comporta il rischio di inalazione di una sostanza non posso adottare misure di protezione collettiva che sono sempre da preferire rispetto ai dispositivi di protezione individuale perché? è perché si chiamano dispositivi di protezione individuale quindi dipendono dalla persona e noi sappiamo che le persone sono meno efficaci delle macchine e però a quel punto devo distribuire i dp che servono a gestire il rischio residuo quindi la sto facendo una super pillola alla bignami ma è così perché comunque si riferisce all'obbligo all'articolo 2087 del codice civile e andiamo a un punto che poi sicuramente Claudio vi scelerà molto meglio di me qual è lo stato dell'arte? perché il 2087 qualcuno dice è una norma generica non ti dice quali sono le misure ma se tu sei RSPP devi scegliere un dpi devi scegliere il dpi che in quel momento è lo stato dell'arte per quel rischio filtrante facciale con certe caratteristiche non ti puoi permettere di non sapere quali sono le caratteristiche del dpi non ti puoi permettere di non sapere e non dire all'azienda che il dpi terza categoria è un dpi che richiede addestramento e aggiungo la norma è cambiata 37,5 in generale gli interventi di addestramento devono essere tracciati sul registro quindi mentre prima del 21 dicembre 2021 come io ho sempre detto non è obbligatorio il verbale di addestramento ahimè ora è obbligatorio il registro di addestramento poi le domande sul registro me ne faccio una da solo cosa ci scrivo nel registro? io devo dire che su questo noi siamo un po' viziati da un legislatore troppo attivo e quindi se non ci dicono esattamente come si come si prende la pillola cioè alla fine noi non sappiamo come si prende la pillola se io ti dico registro fallo come ti pare cosa ci deve stare nel registro di addestramento chi è la persona addestrata che è brutto dire persona addestrata sembra quasi un animale chi è la persona esperta perché l'addestramento lo fa persona esperta e questo già vi dice che è diverso dalla formazione esattamente perché la formazione la fa il docente che deve avere certi requisiti la persona esperta non è il docente quindi ci sta la domanda chi è la persona esperta ci sono anche delle definizioni nelle norme uni di chi è la persona esperta attenzione ma io che sono ignorante della materia tecnica poi ci aiuterà Claudio su questo vi dico che per me la persona esperta è chiunque sia in grado su quella macchina su quell'attrezzatura su quella procedura di dare una spiegazione a chi non è esperto quindi è l'azienda che stabilisce che è la persona esperta e perché si chiama persona esperta perché se un giorno dovessimo avere un nuovo rivoluzionario prodotto della 3M e nessuno dei miei l'ha mai usato arriva Claudio Calbiate e ce lo spiega perché c'è scritto persona e non lavoratore non preposto quindi a quel punto ho bisogno di un soggetto esterno di unicum della 3M che essendo persona a conoscenza delle caratteristiche del DP è in grado di spiegarlo ai miei lavoratori non so se avete capito e quindi per me nel registro che oggi è lo vecchio verbale chiamatelo registro gli elementi giuridici essenziali che ci devono essere sono chi è addestrato chi è la persona esperta il luogo in cui è stato fatto addestramento perché l'articolo 37,5 ci dice che l'addestramento si fa sul luogo di lavoro o significa in un luogo che riproduce il luogo di lavoro io lo interpreto così e basta se poi ci vogliamo scrivere che abbiamo fatto 5-6 argomenti io sono ancora più contento ma questo ovviamente ha a che fare con la logica piuttosto che col diritto mi taccio perché se no parlo solo io anche perché se no vai a rubare anche l'intervento di Claudio e non voglio perché devo apprendere e quindi poi lo bloccherò poi lo fermerò pure continuamente perché sono molesto ma questo ha a che fare con il mio carattere c'è una domanda visto che comunque la norma non specifica appunto parla di persona esperta non si parla di docente però c'è qualcuno che chiede la persona esterna esperta deve essere individuata su qualche documento nel senso la persona che io chiamo magari dall'esterno deve avere un attestato a sua volta magari da 3M come nel caso di ve la sto mettendo su un piatto d'argento una risposta veloce non è richiesto ma è chiaramente preferibile perché se io come azienda nel tempo mi do uno schema di qualificazione della persona esperta come molte aziende che seguo hanno fatto ma con gli anni è meglio perché tu sai che la persona prima è stata esperta della macchina X poi è stata esperta del procedura Y e ho tutte diciamo così le stratificazioni di questa dimostrazione un giorno se dovessi avere bisogno di dimostrare che un lavoratore era stato addestrato da una persona in grado allora è chiaramente molto meglio avere questo schema di qualificazione ma non è obbligatorio stai forse dicendo che i tecnici Unicum che hanno un attestato per l'appunto da 3M sono preferibili rispetto a questa scenetta l'abbiamo provata dieci volte scherzi a parte non l'abbiamo provata ma è così non c'è dubbio che non è solo Unicum ma l'azienda o anche il fornitore che ti dà questo benefit evidentemente ti dà un grosso benefit io sto parlando di aziende che se lo sono creato in dieci anni uno schema di qualificazione dei vari soggetti che è molto importante perché se poi arriva un ragazzo nuovo un ragazzo nuovo assunto o addirittura un ragazzo in alternanza scuola lavoro adesso io non so come sia successo il fatto di Lorenzo ma lì il ragazzo in alternanza scuola lavoro equiparato al lavoratore la prima cosa che devi fare lo devi far prendere in carico da una persona esperta ok quindi è un vantaggio per tutti avere questo tipo di formalizzazione che non viene da oggi non è il bollino te lo dico io quindi lo dice Lorenzo Fantini no te lo dico perché Lorenzo Fantini ha controllato che quella persona ha avuto l'esperienza per quel prodotto per quel DP quindi è un vantaggio accessorio come si potrebbe dire no non è certamente obbligatorio ma è altamente qualificante per chi poi te lo dà il servizio no questa è la mia idea assolutamente poi ci sono alcuni riferimenti tecnici riprenderò dopo nella mia relazione per quello che riguarda alcune tipologie di dispositivi di protezione individuale su quelle che sono le competenze che deve avere chi va a fare certa attività in azienda compresa l'addestramento quindi su questo poi ci torno magari dopo in maniera più specifica con qualche con qualche riferimento senza che ti tolgo tempo all'altro argomento perché sicuramente il datore di lavoro solo questo ti dovrebbe io mi permetto di fare un ultimo passaggio cioè sull'addestramento perché poi altre cose le trovate nelle slide i riferimenti agli articoli del titolo terzo li leggete là non vi voglio annoiare con la parte giuridica se volete approfondirla sta lì vi ricordo che per il DPI è previsto l'addestramento e per il DPI di terza categoria è obbligatorio l'addestramento quindi mettiamo insieme le cose l'addestramento era già obbligatorio prima in generale quando si fa l'addestramento dove è previsto dice l'81 e qua vale il discorso fatto precedentemente domanda che mi fanno spesso quali sono i casi in cui è previsto l'addestramento faccio un'estrema sintesi sicuramente i casi in cui c'è una norma di legge che lo prevede disciplinando espressamente quell'addestramento primo tra tutti l'addestramento per le attrezzature di cui all'accordo 22 febbraio 2012 però signori miei quell'accordo mica prevede tutte le attrezzature per esempio il carro ponte non c'è e voi secondo voi si può usare un carro ponte senza aver fatto addestramento a meno che non sei uno che da 30 anni fa non usa il carro ponte perché anche questa è una domanda che mi fanno cioè se la persona ha 20 anni di esperienza bisogna fare addestramento no no perché è una persona esperta chiaramente ti assumi la responsabilità di dire che è una persona esperta non ho mai trovato un giudice che abbia detto che una persona con 20 anni di esperienza aveva bisogno di addestramento perché è assurdo casomai è persona esperta ok e e dopo di che mettiamo insieme le cose è obbligatorio l'addestramento dal 21 febbraio lo dobbiamo tracciare per il passato non è obbligatorio tracciarlo quindi ne facciamo le cose retroattive pasticciate perché il legislatore si è inventato il registro ok però poi quell'addestramento lo dobbiamo seguire per quello che è cioè si fa non solo quando la legge lo prevede espressamente altro caso montaggio e smontaggio dei ponteggi ma tutti i casi in cui la valutazione dei rischi mi dice che non mi basta la formazione perché per usare un trapano a colonna per usare una pressa se sei persona non esperta hai bisogno di essere affiancato a una persona esperta non è che ci dobbiamo inventare non mi confondete la formazione con l'addestramento mi sento male ieri ho risposto a cinque di un ottimo cliente cinque domande su questo cioè perché le aziende cosa cercano di fare dicono vabbè risparmiamo tempo quando facciamo formazione facciamo pure addestramento lo capisco ma sono due cose diverse e ora il legislatore lo dice chiaramente anche perché l'ultima cosa che dico l'esempio che faccio penso che sia utile io sono docente ho i requisiti del docente non posso fare i corsi di formazione come docente se non ho i requisiti del docente ma io non sono assolutamente persona esperta l'addestramento io non lo posso fare perché non ci capisco niente di macchine non ci capisco niente di attrezzature quindi il docente potrebbe non essere persona esperta e la persona esperta non richiede il possesso dei requisiti del docente le due cose sono diverse quindi lo volete fare lo stesso giorno ma facciamolo seriamente e i due registri vanno separati chiaro? non mi fate vedere l'attestato di formazione addestramento perché mi viene l'orticaria e forse viene pure il magistrato che non crede che nella stessa giornata in aula tra l'altro l'addestramento si fa sul luogo di lavoro e non ci crede che quello sia un addestramento serio avete capito? quindi io vi sconsiglio di fare un attestato di formazione e addestramento una domanda interessante quando è che dobbiamo rifare l'addestramento? qualcuno chiede ma se io ho fatto formazione addestramento è permanente? la risposta che darebbe un grande chef è permanente? quanto sale ci metto? quello che basta quello che serve no scusate il cannavacciolo ti dice esattamente il numero no bisogna vedere quanto acqua c'è non c'è la risposta a questa domanda te la devi dare da solo anche se poi il comico direbbe la risposta è dentro di te ed è sbagliata ed è sbagliata ma è permanente? l'addestramento non è permanente l'addestramento lo fai e poi sinceramente io lo programmerei perché nessuno impara una volta e poi non impara cioè io direi che un monitoraggio dell'addestramento è assolutamente da considerarsi la norma non lo dice ma la logica ci dice che un refresh ogni tanto ecco una cosa interessante nell'accordo 37,2 è previsto chi l'ha scritto ha avuto questa idea è previsto all'obbligatorietà della verifica della formazione però però io direi che si può estendere anche l'addestramento on the job quindi è obbligatorio che durante il corso dello svolgimento dell'attività lavorativa cioè non si prevede solo la verifica finale di apprendimento che è obbligatoria per tutti i percorsi formativi cosa che non è oggi nessuno lo sa solo che i soggetti seri fanno comunque la verifica finale di apprendimento sempre e quindi l'accordo ci dirà come dobbiamo fare la verifica finale ma ci dovrebbe dire come dobbiamo fare la verifica on the job quindi di fatto diventa obbligatoria il monitoraggio della formazione è secondo me pure dell'addestramento anche perché se non erro è stato introdotto l'obbligo di fare un addestramento simulando le operazioni di lavoro guardiamo l'articolo c'è quella aggiunta di quella piccola frase che secondo me deve tenere conto dell'attività quindi attenzione perché l'addestramento se ne parla poco della legge 215 tutti ottenebrati dal preposto o dal datore di lavoro della formazione del datore di lavoro con cui qualcuno si è molto arrabbiato io invece penso che la previsione di un obbligo formativo per il datore di lavoro sia un valore aggiunto importante perché essendo il soggetto non è ancora in vigore chiaramente stiamo aspettando l'accordo per capire quante ore saranno dalle notizie che ho potrebbero esserci ore diverse a seconda del rischio dell'azienda io non sarei tanto d'accordo perché se dovessi scriverlo io il corso per il datore di lavoro lo farei come un corso esclusivamente di natura culturale perché il datore di lavoro se vuole fare il tecnico ha già fatto il corso RSPP e se lo lasciamo perdere questo testo perché è dolente secondo me perché con 16 ore non puoi fare alle aziende a rischio basso l'RSPP però è la mia personale opinione ma se tu fai l'imprenditore non ti devo spiegare come devi fare la valutazione dei rischi perché lo fa il servizio di prevenzione e protezione sto parlando del datore di lavoro che non fa l'RSPP ti devo spiegare quanto è importante il valore della sicurezza quanto è importante correlarsi col servizio di prevenzione e protezione come funziona l'assicurazione e quanto costa un infortunio perché l'infortunio non è vantaggioso per l'azienda quindi io mi aspetterei un corso di questa matura però insomma non lo devo scrivere io l'accordo mi fermo perché se no veramente andiamo troppo lungo allora andiamo in pausa 10 minuti e poi riprendiamo ci sarà l'apo che farà una breve introduzione sulla piattaforma per il controllo degli attestati e poi cominciamo con i contenuti di Claudio va bene quindi 10 minuti di pausa ci vediamo fra 10 minuti a dopo grazie bentornati grazie mille spero che la pausa sia stata rifocillante adesso riceverò la parola ovviamente ai nostri relatori che sono sicuramente più interessanti un piccolo intermezzo per spiegarvi la piattaforma a cui oggi siete acceduti e dalla prossima volta continuerete ad accedere con un'interfaccia unigum vera e propria è una piattaforma che ci proietta un po' nel futuro soprattutto per quelli come me che hanno difficoltà digitali questo è un ambiente unico dove non dovremo più ricordarci se la riunione era su Zoom su Meet su Teams o meno ma potremo accedere sempre qui e trovare nella nostra pagina personale il link alla riunione al corso che faremo lì troverete non solo la possibilità di accedere al corso in maniera sincrona volendo ci sono tutta la formazione asincrona per voi ci saranno i repository di documenti quindi trovate anche tutti i documenti gli approfondimenti vari relativi al corso troverete il registro il tracciamento del registro in modo che la formazione ovviamente valga come aggiornamento ai fini del 81 e dei successivi ovviamente decreti così come poi troverete il vostro attestato lo troverete lì e potrete andarla a ritrovare ogni volta che vorrete questo è un nuovo servizio che ci porta e ci proietta in un mondo digitale siccome io di digitale ho molto poco credo che è giusto che sia Silvia invece in back office a spiegarci tecnicamente come funziona è molto facile ma insomma è bene che sia lei a dirvi che cosa funziona come funziona questa nuova piattaforma grazie Lapo buongiorno a tutti nuovamente sono Silvia qualcuno di voi già mi conosce mi occupo di gestione di organizzazione dei corsi in Queen nonché sono la responsabile dell'area e learning come ha detto Lapo avete a disposizione un'area tutta vostra dove poter recuperare i materiali e tutto quello che afferisce al workshop di riferimento a cui siete stati iscritti per accedere alla piattaforma è molto semplice vi sono arrivati anche i dati per farlo ma qui li ripeto quindi entrerete con il link www.elearning.queen.it e dopo 48 ore dall'evento potrete entrare quindi nella vostra area personale facendo il login dalla home cliccando quindi sul polsante in alto a destra login o register e inserendo come username il codice fiscale in minuscolo e come password la password che vi è stata fornita dopodiché entrerete nel vostra area personale cliccherete sull'evento sull'evento a cui siete iscritti quindi all'evento di oggi sull'immagine relativa e finalmente nella struttura dell'evento stesso effettuerete un test un test a scelta multiple cliccando prego la regia magari di andare avanti con le slide così i nostri utenti possono seguire questo è il momento del login dopodiché voi entrerete nella vostra area personale cliccherete sull'immagine del workshop e andrete a cercare il test test seminario quindi cliccherete sulla voce attiva ed entrerete all'interno del questionario di verifica è un questionario molto breve costituito da alcune domande a scelta multipla basterà selezionare ogni volta l'opzione che ritenete corretta e procedere poi nelle pagine quindi seguire le istruzioni a video al termine del test lo consegnerete visualizzerete un feedback se il feedback è positivo potrete scaricare immediatamente il vostro attestato attestato di frequenza per chi quindi di semplice partecipazione per alcuni di voi e per chi invece l'ha richiesto l'attestato con i crediti e per se avete problemi di accesso o qualsiasi altra criticità potete scrivere a web piocciolaquill.it e noi poi saremo ben lieti di aiutare grazie Silvia riprendiamo la linea da qui grazie a Silvia grazie a Lapo grazie a Queen per supportarci da un punto di vista formativo per quanto riguarda l'erogazione degli attestati e dei crediti è arrivato il tuo momento Claudio a te la parola io vi lascio vado a far partire le tue slide perfetto grazie sì mi aiuterò con delle slide non vi preoccupate sono molte non le commenterò tutte come dico sempre ma le preparo per avere un senso logico al discorso che volevo fare con voi oggi che è incentrato sulle novità che la legge di dicembre porta per quello che riguarda i dispositivi di protezione individuale quindi all'interno delle slide ho messo molti riferimenti alle norme nuove che si applicano per darvi la possibilità di consultarle poi in un momento successivo allora di che cosa stiamo parlando stiamo parlando fondamentalmente di che cosa è cambiato rispetto al passato per quello che riguarda chiaramente i dispositivi di protezione individuale quindi io mi concentrerò essenzialmente su questo aspetto non andremo a vedere in maniera più ampia perché di questo sicuramente maestro Lorenzo che adesso ci raggiunge sicuramente ma affronteremo soltanto alcuni argomenti specifici ripeto alcune di queste slide le passerò velocemente ma non vi preoccupate cerco di andare direttamente al punto anche per rispettare i tempi anche perché molte alcune cose le abbiamo già viste in precedenza allora parliamo fondamentalmente di due argomenti che mi interessa affrontare con voi rispetto alle novità che la legge di dicembre ci porta in dote e volevo parlare di due aspetti addestramento e scelta ed uso dei dispositivi di protezione individuale che sono i due aspetti che fondamentalmente vanno in qualche modo valutati e gestiti rispetto alle novità che abbiamo ricevuto sono stati aggiornati i criteri di scelta dei dispositivi di protezione individuale in particolare parleremo oggi di protezione delle vie respiratorie e protezione dal rumore sono cambiate le alcune indicazioni sull'utilizzo dei dispositivi stessi ci sono delle indicazioni aggiuntive come abbiamo già avuto modo di affrontare nella prima parte sull'addostramento ma interrerò un po' più nel dettaglio anche sui contenuti e le modalità dell'addestramento e chiaramente uno degli aspetti più importanti e sicuramente più impattanti è la validazione dei dispositivi di protezione individuale quindi il famoso fit test per la protezione delle vie respiratorie che è sicuramente una novità molto importante da un punto di vista procedurale ma mi permetto di dire anche da un punto di vista della gestione della sicurezza in azienda perché ci permette di avere una certezza rispetto a ciò che stiamo dando come è cambiata l'addestramento l'abbiamo già il ruolo del preposto lo salto perché l'abbiamo già l'abbiamo già visto andiamo direttamente all'addestramento e alla formazione sulla formazione ha già detto qualcosa Lorenzo in precedenza quindi sulla necessità di verificare la formazione ne abbiamo già parlato in precedenza quindi vado abbastanza veloce su questo aspetto e mi fermo un attimo invece sull'addestramento nell'aggiornamento di dicembre è puntualizzata in maniera molto più precisa la gestione dell'addestramento all'uso corretto del dispositivo di protezione individuale che è un momento lo ripeto ancora una volta perché c'è sempre molta confusione e sono d'accordo con Lorenzo su questo è un momento diverso dalla formazione un momento specifico per quello che riguarda i dispositivi di protezione individuale è il momento in cui spiego ai miei lavoratori l'utilizzo corretto del dispositivo di protezione individuale e lo vedete spero che si veda la parte in retto che è la parte diciamo aggiornata rispetto al precedente al comma 5 sono stati aggiunti è stata aggiunta questa frase l'addestramento consiste in una prova pratica quindi abbiamo un primo punto fermo durante l'addestramento esiste la prova di utilizzo del dispositivo di protezione individuale e questo teniamocelo in mente poi lo declineremo meglio per quello che riguarda la protezione delle vie respiratorie perché di questo parliamo essenzialmente oggi consiste nell'esercitazione pratica per le procedure di lavoro in sicurezza e devono essere tracciati in un apposito registro e questo lo abbiamo già detto l'esercitazione applicata io qua chiedo un po' anche l'aiuto di Lorenzo nel leggere questa puntualizzazione perché in fondo ci si poteva affermare anche l'addestramento consiste nella prova pratica punto finito lì c'è una puntualizzazione successiva l'addestramento consiste inoltre in un'esercitazione applicata quindi è qualcosa di diverso rispetto alla sì confermo che è diverso leggendolo con diciamo così le regole dell'interpretazione della norma di legge si riferisce alle procedure di lavoro in sicurezza cioè per le procedure di lavoro in sicurezza è necessaria un'esercitazione applicata che cosa si intende immaginiamo che la procedura sia entriamo in un'area atmosfera modificata cioè io devo far ripeto l'accesso una, due, tre volte fin tanto che non sono sicuro che quelle procedure di lavoro in sicurezza non sono state interiorizzate dalla persona io la leggo così cioè è una specifica per dire se perché l'addestramento ripeto molti identificano l'addestramento con l'attrezzatura non è assolutamente è così l'addestramento si fa anche per procedure potrei fare tanti esempi non le faccio perché offendo gli RSPP che sono da noi ecco però collegati o sono qui presenti vuol dire che quando faremo l'esercitazione sulle procedure dobbiamo fare un'esercitazione applicata cioè vedere se la persona ha capito cioè se abbiamo tre step per entrare in una stanza mi devi far vedere che tu li rispetti tutti questi tre step è un'esercitazione ecco la norma lo dice chiaramente esercitazione applicata esercitazione applicata cioè quando facciamo questo dobbiamo dare evidenza che è stata fatta esercitazione applicata non nel registro nel registro questo non è richiesto colgo l'occasione è sbagliato a darmi la parola che ti tocca subire non sottovalutate l'impatto potenziale è del fatto che il registro possa essere tenuto sul supporto informatico questa è una cosa che io dico ogni volta siamo nel 2022 i sistemi informatici ci potrebbero addirittura aiutare a non avere più carta quindi noi possiamo sfruttare il teniere di sfruttare l'articolo 53 dell'81 che ci dice che tutta la documentazione rilevante in materia di sicurezza può essere tenuta anche solo sul supporto informatico e agganciamo le due cose no potrei io con un sistema informatico dare prova dell'esercitazione pratica attraverso il sistema informatico la risposta è sì naturalmente dovete leggere l'articolo 53 dell'81 se poi quello che noi stiamo facendo è creare una documentazione possiamo avere quella documentazione anche solo sul supporto informatico ma deve essere immodificabile perché l'ispettore poi non deve trovare un word modificabile in qualsiasi momento capite? perché se no non vi sto dicendo questo dicevo Fantini ha detto no Fantini non ha detto questo ha detto di leggere l'articolo 53 che dice che tutta la documentazione rilevante compreso il DVR potrebbe essere tenuto solo sul supporto informatico quindi secondo me si apre una possibilità e anche qui ci tengo a dire io comunque non ho partecipazioni su società che fanno attività informatiche vi sto cercando solo di spiegare che secondo me la tecnologia ci aiuta a non produrre tonnellate di carta ok questo voglio dire così tu adesso però adesso tu non ti devi inibire per farmi domande è andato un po' lungo con questa no no assolutamente tra l'altro per me questa puntualizzazione vuol dire se la penso non mi inibisco infatti lo so quindi non ho dubbi quindi non mi faccio scrupoli tra l'altro per me questa puntualizzazione su questo articolo se la penso per i dispositivi di protezione individuale per me vuole anche dire pensare a un addestramento all'uso corretto che non è uguale in tutte le attività lavorative in tutte le tipologie di azienda quindi se io faccio l'addestramento all'uso corretto di una maschera in un'azienda petrolchimica l'addestramento avrà dei contenuti diversi rispetto all'utilizzo del dispositivo magari anche lo stesso magari in un'azienda sanitaria o in un ospedale perché i contenuti dell'addestramento devono essere coerenti anche all'attività lavorativa e adesso poi sui contenuti ci torno sicuramente tra poco ritorno invece sull'aspetto di persona competente perché questa è una cosa che è importante che viene fuori e veniva fuori anche in precedenza perché su questa cosa non c'è nessuna novità da un punto di vista normativo e legislativo nel senso che per quello che riguarda alcune tipologie di dispositivi di protezione individuale come la protezione delle vie respiratorie ci sono dei riferimenti su quelle che sono le competenze che devono avere le persone che vanno a fare addestramento all'uso corretto competenze che però non sono vincolanti perché non sono riportate all'interno del testo dell'81 o di un provvedimento legislativo ma sono riportate all'interno di alcune norme di alcune norme tecniche che possono rappresentare come ci ha insegnato Lorenzo possono essere comunque considerate come un riferimento importante e valido come base di partenza nel senso che vedremo dopo cosa si fa per la protezione delle vie respiratorie la stessa cosa si potrebbe dire per gli indumenti per il rischio chimico dove c'è anche lì una norma dove vengono individuate le competenze che deve avere chi fa l'addestramento all'uso corretto e quindi non ci si può aspettare di avere questo riferimento all'interno del provvedimento legislativo è una valutazione che va fatta come diceva prima Lorenzo da parte del datore di lavoro o del dirigente nel momento in cui organizza l'addestramento all'uso corretto che ricordo è obbligatorio per i dispositivi di terza categoria faccio un passo avanti dell'addestramento poi magari se c'è qualche domanda poi ci ritorno quando parlo di protezione delle vie respiratorie e dell'udito sui contenuti successivamente sicuramente quando pensiamo alla novità più impattante e questa è una novità veramente più impattante da quando è uscito l'81 quindi veramente sono d'accordo con te Lorenzo che è il cambiamento più importante da quando è uscito l'81 in termini di contenuti attività da fare quando è uscito l'81 dopo che è stato modificato nel 2009 perché chiaramente abbiamo descontato che l'81 è stato fatto in due fasi nel 2008 con l'81 poi la 106 del 2009 quindi volevo dire questo ed è così è proprio un dato numerico il numero di articoli modificati è il più alto da quando l'81 è stato generato negli anni 2008 e 2009 quindi questo già ci dice che l'impatto sulla prevenzione è notevole assolutamente per quello che riguarda dispositivi di protezione individuale sicuramente la modifica dell'articolo 79 comma 2 bis è certamente l'aspetto più rilevante importante più impattante quando parliamo di DPI che cosa è cambiato alla fine è cambiato veramente in un piccolo dettaglio ma che fa una differenza veramente enorme è stato aggiunto lo vedete lì in eretto al comma 2 bis io vi ricordo l'articolo 79 è l'articolo che tratta criteri di scelta ed utilizzo quindi scelta ed uso ricordiamoci che non è solo la scelta ma anche l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e la norma riflette anche questo aspetto come vedremo tra poco criteri di scelta ed uso che cosa prevede l'articolo l'articolo è molto semplice prevede al comma 2 che il ministero del lavoro sentito dalla commissione costruttiva permanente pubblica i decreti che riguardano appunto scelta ed utilizzo di DPI articoli del comma 2 non ne sono mai usciti dall'uscita dell'81 per questa ragione rimane in vigore l'articolo comma 2 bis che lo leggete qui si applica utilizzando un decreto che risaliva ancora il 2001 quindi diciamo già vecchio quando è uscito l'81 oggi con questo aggiornamento di quella piccola frase quindi aggiornato con l'edizione nelle norme 1 i più recenti ci restituisce un decreto che è del 2001 ma di fatto è aggiornato alle norme più recenti quindi mi dice non applicare più quelle norme che erano alcune risalenti ancora agli anni 90 riportate nel DM del 2001 ma applica la norma più recente alcune norme riportate per la cronaca in quel decreto del 2001 hanno subito già due aggiornamenti nel frattempo quindi di cui non abbiamo tenuto conto oggi uso le norme più recenti facciamo un passo avanti tornando però indietro facciamo un passo avanti tornando un pezzetto indietro e vi ricordo come è scritto il decreto 2 maggio 2001 che finché non verranno pubblicati i decreti del comma 2 è il nostro riferimento per la scelta d'uso dei dpi è scritta in maniera molto semplice e molto anche mi permetto di dire in maniera molto intelligente nel senso che ti dice sono approvati i criteri per l'individuazione e l'uso riportati in questo decreto sono approvati e per me la parola approvati ha un significato se è utilizzato approvato e non consigliato non un'altra parola è certamente qualcosa che diventa in qualche modo vincolante vincolante nei termini dell'articolo 2 che mi permette di derogare dall'articolo 1 ma semplicemente dicendo che cosa puoi utilizzare anche un altro criterio che non è quello della norma tecnica delle norme tecniche che vedremo oggi però mi devi dimostrare che questo abbia una sicurezza equivalente quindi tu puoi utilizzare anche un altro criterio ma questo deve essere equivalente alle norme che tu vai a applicare non facilissimo onestamente però teoricamente possibile adesso poi scorreremo rapidamente i contenuti delle due norme tecniche perché chiaramente non potremo vederne tutti i dettagli però vedrete che all'interno delle norme è scritto il processo di scelta utilizzo addestramento e validazione del dispositivo di protezione individuale quindi è scritto in maniera molto chiara la norma è approvata e approvata come criterio di scelta quali sono le norme adesso adesso lo vediamo questo è un'estrema sintesi quindi se sommiamo l'articolo 1 del 2 maggio 2001 alla modifica dell'articolo 79 comma 2 bis cosa ci ritroviamo che criteri approvati per la scelta ed uso dei dispositivi di protezione individuale di riferimento sono queste due norme per udito e via respiratoria che è quello di cui parliamo oggi ti fermo un attimo perché qua c'è una discussione giuridica non semplice da fare tu giustamente hai fatto una ricostruzione tecnica ineccepibile però qualcuno potrebbe dire qualche fine giurista potrebbe dire ah ma attenzione se intanto che non esce il nuovo decreto noi non applichiamo le norme più recenti perché da un punto di vista giuridico vorrebbe modo di dirlo è corretta questa interpretazione non è corretta vi spiego perché perché è vero che la tecnica normativa è una tecnica vecchia cioè e ve lo dico perché quando abbiamo provveduto a scrivere l'81 nel 2008 secondo me dobbiamo avere un po' di più di coraggio cioè dobbiamo dire che sulle questioni tecniche l'azienda applica le norme tecniche più recenti cioè dobbiamo rendere la norma di legge automaticamente dinamica cosa che è stata proposta dal ministero del lavoro al tempo ma non è stata accettata dalle regioni dai sindacati e da confindustria quindi voglio che sia chiaro perché è stato detto non c'è la certezza del diritto ma è sbagliato perché comunque l'articolo 2000 ecco la seconda volta che cito l'articolo 2087 del codice civile cosa ci dice l'articolo 2087 del codice civile caro datore di lavoro devi adattare la tua organizzazione allo stato dell'arte e lo stato dell'arte dei dispositivi di protezione delle vie respiratorio è l'11.719 non è la norma citata nel decreto del 2001 che è precedente all'11.719 quindi c'è una situazione paradossale per cui le amministrazioni non hanno recepito le norme tecniche all'interno del decreto ancora non sono state recepite ma di fatto sono obbligatorie non so se sono stato chiaro cioè l'azienda che non si aggiorna non potrebbe dire a un magistrato non era obbligatoria la norma tecnica perché non è stato fatto il decreto attuativo lo potrebbe dire ma il magistrato risponderebbe dicendo la norma tecnica è l'evoluzione della norma di cui all'articolo 79,2 e se dimostra che quel dp era meno efficace non ha un livello di sicurezza equivalente potrebbe ritenere responsabile il datore di lavoro e il dirigente per non avere scelto il dpi secondo i criteri della norma tecnica evoluta non è un discorso semplice spero di farlo in maniera che si comprenda cioè da un punto di vista delle potenziali responsabilità l'azienda deve conoscere queste norme e chi la deve conoscere innanzitutto il servizio di prevenzione e protezione perché siccome il servizio di prevenzione e protezione è consulente nei confronti del datore di lavoro ci si aspetta che queste materie tecniche le conosca che quindi per la protezione delle vie respiratorie applichila 11.719 ok però speriamo che l'amministrazione copra ogni tipo di dubbio quindi mi riferisco alla mia vecchia amministrazione il ministero del lavoro a cui sono rimasto ovviamente affezionato facendo chiarezza cioè facendo semplicemente adottando il decreto che modificherà il decreto del 2001 perché così qualsiasi tipo di discussione puramente giuridica ce la togliamo dalle scatole ed è chiaro che i parametri di riferimento sono quelli di cui sta parlando Claudio che per me sono già obbligatori ma sono obbligatori non perché siano contenuti in un decreto ma perché c'è una norma generale del diritto civile a ricaduta penalistica che è l'articolo 2087 che impone comunque al datore di lavoro di andare alla migliore sicurezza tecnologicamente disponibile vi faccio un esempio i modelli di organizzazione e gestione contenuti nell'81 articolo 30 ci dice che i modelli che sono adottati conformemente ai beauty standard 18001 si ritengono conformi all'81 ma il 18001 è stata superata dalla 45001 però il decreto relativo non è ancora uscito vi risulta che le aziende si fanno ancora le certificazioni di 18001 se qualche azienda si fa ancora la certificazione di 18001 io proporrei un TSO per l'azienda che lo fa perché non è in discussione che il modello di riferimento è la 45001 anche se il ministero non ha ancora fatto uscire il relativo decreto chiaro? quindi sentitemi bisogna andare al livello di protezione previsto dalle norme tecniche più recenti perché la norma tecnica non è obbligatoria se leggete l'81 vi dice che la norma tecnica è una specifica non obbligatoria ma attraverso il richiamo dell'articolo 2087 di fatto è obbligatoria quindi andiamo sul livello di protezione più recente perché poi nelle norme come Claudio tra poco vi dirà ci sono alcune cose che secondo me hanno un impatto pratico interessante primo tra tutto il fit test perché è una cosa che è la cosa che è più semplice per me discutere con voi perché poi ce ne sarebbero anche altre ma diventa più complicato quindi il richiamo del 2087 alle norme tecniche più recenti non dico che rende superfluo il decreto perché la tecnica legislativa è questa però di fatto questo decreto non fare altro che porre rimedio a qualsiasi tipo di dubbio rispetto alla circostanza che sulle materie regolate da norme tecniche si applicano le norme tecniche più recenti comunque sempre esatto qua abbiamo il merito del fatto di averlo esplicitato in maniera ancora più chiara sì esatto la norma è anche cambiata è stato esplicitato in maniera più chiara e quindi il fatto che la norma sia cambiata favorisce questo tipo di interpretazione che comunque era valida anche prima della norma esatto da un punto di vista operativo sia Confindustria che ha pubblicato una tabella di correlazione norme nuove e norme vecchie sia Uni che pubblicherà sul proprio sito la correlazione fra le norme nuove e le norme vecchie sicuramente facilita anche questa trasposizione quella sintesi che vi ho fatto vedere in precedenza vi ricordo che ci sono anche altre norme di riferimento per altre tipologie di dispositivi di protezione individuale noi abbiamo norme tecniche per la scelta e l'uso di guanti di occhiali sta uscendo una norma per la scelta e l'uso delle calzature di sicurezza quindi questo pacchetto a cui faceva riferimento Lorenzo del comma 2 del 79 si arricchirà sicuramente anche di altre tipologie di DPI quindi da un punto di vista anche di relazione nei confronti delle aziende quindi di attività da fare su altri DPI ci saranno sicuramente delle novità vediamo discorrere magari velocemente i punti principali delle due norme soprattutto per quello che riguarda la protezione delle vie respiratorie che è un po' l'argomento o clu per quelli che sono i DPI di cui parliamo oggi la norma è scritta in maniera molto intelligente nel senso che dal titolo già traspare la filosofia che è dietro la norma non è una norma per la scelta del dispositivo di protezione delle vie respiratorie punto ma è una norma che ti permette di gestire la scelta e l'uso del dispositivo all'interno dell'azienda per preservare le vie respiratorie dei tuoi lavoratori ed è formata da quattro punti che vanno a completare questo quadro chiaramente c'è una parte di scelta questo è evidente quello che uno ci si aspetta come scelgo la maschera il P2 il P3 la maschera antigas eccetera che è la cosa un po' se vogliamo più scontata però non è così scontata perché i criteri di scelta sono cambiati rispetto a quelli che eravamo abituati a vedere prima c'è una parte chiaramente di valutazione dell'adeguatezza del dispositivo a livello di rischio mi serve un P2 perché la concentrazione delle polveri è tot ma non è soltanto quello la scelta deve tener conto anche di altri fattori e lo vedremo lo vedremo dopo e questi fattori devono essere in qualche modo documentati all'interno della valutazione che faccio del dispositivo stesso quindi non è soltanto il livello di protezione e non è soltanto il fit test poi c'è una parte chiaramente che riguarda l'addestramento che al momento non la ritroverete nella 11.719 perché è in fase di revisione la 11.719 giusto per tenerci un po' attivi è in fase di revisione quindi è partita la revisione della norma per renderla anche più aderente a come sono cambiati i dispositivi di protezione delle vie respiratorie evidentemente visto quello che abbiamo parlato in questi due anni non abbiamo mai nominato Covid-19 in alcuna volta nella nostra presentazione che è un record perché finalmente vorrei anche uscire da questa logica che anche personalmente nel mio ruolo istituzionale che Stefano Santoni conosce bene mi ha visto impegnato in questi due anni in maniera molto importante quindi mi fa piacere che siamo riusciti a non parlare di Covid maschere per il Covid l'unica cosa che vorrei dire adesso approfittando di questo rispondendo a una possibile domanda che qualcuna delle persone collegate o presenti può avere che mi hanno fatto molte volte quindi vuol dire che c'è un profilo di diciamo così di dubbio è che succede adesso con lo stato di emergenza del 31 dicembre 2022 allora la risposta è che lo stato di emergenza fino al 2022 non è una proroga dello stato di emergenza da Covid ma è un altro stato di emergenza di cui non voglio parlare perché mi intristisco ovviamente quindi mi rifugio nella citazione di canzoni di Ross Stewart o degli Abba a seconda di quello che volete cioè non voglio parlarne no? I don't want to talk about it direbbe Ross Stewart oppure gli Abba in un'altra canzone dice non voglio parlare di questo tanto i vincitori prendono tutto in una delle canzoni degli Abba non ne voglio parlare perché mi intristisco ma è uno stato di emergenza relativo allo stato di guerra cioè noi non siamo in stato di guerra siamo in stato di emergenza perché presumiamo di dover adottare delle misure che richiedono velocità e quindi possono essere adottate dal governo e non devono essere adottate dal Parlamento ma è un'altra cosa quindi non se qualcuno collegato giustamente si pone il dubbio quello che stiamo dicendo per esempio sull'utilizzo delle mascherine che voi sapete che le mascherine chirurgiche non sono DPI quindi la deroga sull'utilizzo della mascherina chirurgica come se fosse un DPI rispetto all'81 cesserà il 31 marzo salvo che in queste ore non si faccia una proroga dello stato di emergenza pandemica mi è chiaro? ecco ci tenevo a dirlo perché siccome è una domanda che mi fanno spesso vi vorrebbe venire il dubbio me l'hanno posta molti clienti dicono ma che succede adesso con la proroga magari dentro di loro diciamo possiamo fare la videoconferenza fino a dicembre no perché la proroga non è una proroga è proprio un altro stato di emergenza avete capito? quindi ci tenevo a sottolinearlo non ha un impatto sulle misure di sicurezza perché soprattutto per la parte DPI mascherine no assolutamente assolutamente infatti vengono meno tutti i provvedimenti di autorizzazione in deroga commercializzazione di prodotti in deroga ci pone una serie di problemi pratici perché abbiamo una disciplina che vi faccio un esempio per tutti e poi mi taccio lo smart working cioè adesso le disposizioni emergenziali sullo smart working che prevedevano che si potesse fare lo smart working senza accordo individuale o senza accordo collettivo scritto vengono meno infatti i clienti mi stanno cominciando a mandare la richiesta di visionare gli accordi individuali e le informative sullo smart working quindi la disciplina emergenziale dello smart working cesserà il 31 marzo e quindi dovremmo fare gli accordi se vogliamo proseguire come quasi tutte le aziende faranno il lavoro e il smart working magari meno massiccio che nel periodo di emergenza ci vuole l'accordo scritto con il lavoratore o i lavoratori e l'informativa scritta sulla salute e sicurezza sul lavoro perché l'emergenza pandemica il 31 marzo finisce quindi ecco perché sono tutti naturalmente in fibrillazione perché magari Fantini mi dai un'occhiata all'accordo e sì te lo do certamente sono qui per questo però dobbiamo renderci conto che entro la fine del mese un certo tipo di deroghe le perderemo questo potrebbe avere un impatto sull'organizzazione della sicurezza esatto tornando alla 11719 i quattro pilastri che vedete qui appunto c'è una parte di scelta ed uso che adesso poi affronteremo solo negli aspetti di novità direi io l'addestramento all'uso corretto come vi dicevo non è riportato all'interno della 11719 ma non per questo ci mancano i riferimenti perché noi abbiamo come riferimento anche una norma europea che è la N529 che all'interno ha i contenuti dell'addestramento all'uso corretto della protezione delle vie respiratorie quindi se ho dei dubbi su come organizzare l'addestramento lo trovo all'interno di quella norma è descritta in maniera coerente con quello che abbiamo visto prima nell'81 nel senso che è prevista certamente la prova pratica nell'addestramento ma non è solo quello l'addestramento all'uso corretto è anche rendere consapevole il lavoratore del rischio che corre nel utilizzare male o bene il dispositivo di protezione individuale si basa su una logica che magari avete già sentito nominare molte volte anche da me è una logica a quattro fasi spiego il rischio spiego quelle conseguenze di questo rischio al lavoratore spiego come funziona come ho scelto quel dispositivo di protezione individuale e poi faccio la prova pratica vedo come si utilizza come si fa la manutenzione questa logica la potete applicare e la ritrovate in moltissime norme tecniche ma è una logica se vogliamo di buon senso che permette di condividere non soltanto l'uso dell'attrezzatura ma anche la consapevolezza del perché si usa quel tipo di attrezzatura lì ed è quello che poi io consiglio sempre quando si fa l'addestramento all'uso corretto poi certamente c'è un aspetto molto rilevante e impattante che è la prova di adattabilità come la chiamano la norma la vedremo dopo quella che noi chiamiamo fit test è una prova che mi permette di verificare l'idoneità del dispositivo oggi stiamo parlando di adeguatezza e di idoneità del dispositivo adeguatezza a livello di rischio e idoneità alla situazione lavorativa e al lavoratore e poi c'è un altro aspetto da non sottovalutare quando si utilizzano dispositivi di protezione delle vie respiratorie un po' più complessi che riguarda la manutenzione quindi viene organizzata in maniera più precisa della manutenzione dando anche dei compiti al fabbricante nei confronti del fornitore e dell'utilizzatore stesso che appunto è a valle tutto parte dal programma di protezione delle vie respiratorie quindi ci viene chiesto di avere un programma di conservazione delle vie respiratorie questo programma chiaramente gestito grazie a un registro in cui annoto tutte le attività che io faccio all'interno del programma è previsto che venga individuato un responsabile del programma quindi qualcuno all'interno della mia organizzazione che si occupa di DDP delle vie respiratorie dovrà in qualche modo gestire il programma e in coerenza con la 11.719 mantenere aggiornato il registro il registro stesso non c'è un format del registro il registro poi prevede una serie di il programma prevede una serie di attività le vedete le vedete qui devono essere definiti i ruoli del programma devono essere definiti i criteri di scelta devono essere definiti i contenuti dell'addestramento devono essere gestita la manutenzione e l'immagazzinamento quindi i contenuti del programma sono molto chiari e sono in coerenza con quei quattro pilastri che vi ho fatto vedere in precedenza la gestione è affidata appunto al responsabile del programma di protezione delle vie respiratorie che è una persona che come dice la norma ha ricevuto una formazione specifica per la gestione del programma stesso quindi chi gestisce il programma di protezione delle vie respiratorie deve essere una persona che ha la competenza per poterlo fare quindi deve sapere la differenza tra un dispositivo e l'altro deve conoscere come funzionano le diverse tipologie di dispositivi e se hanno bisogno di manutenzione che tipo di manutenzione hanno bisogno e se si parla di fit test deve sapere come funziona e quale tipo di fit test fare come lo vedremo descritto dopo quindi non è una cosa proprio scontata quindi è necessario anche avere un approfondimento tecnico sulla gestione del programma stesso alcune slide le passo un po' più veloci all'interno del programma c'è una parte importante che riguarda l'adattabilità del dispositivo al portatore quindi l'adattabilità del dispositivo al portatore è un aspetto che va registrato all'interno del programma quindi il fit test la registrazione di come viene fatto da chi viene fatto e nelle modalità di esecuzione devono essere riportate all'interno del programma stesso così come i criteri di scelta ed utilizzo dei dispositivi stessi vediamo di scorro velocemente per anche una questione di tempo perché vorrei lasciare in fondo spazio anche alle domande perché mi è più utile anche per me che queste cose le vedo quasi quotidianamente sentire le domande perché mi aiuta anche a capire in che direzione magari lavorare anche alla revisione della norma perché no perché alla revisione della norma ci lavoro ci lavoro anch'io quindi se ci sono degli spunti mi sono anche utili tra parentesi allora si scelgono i dispositivi di protezione delle vie respiratorie in funzione del fattore di protezione l'abbiamo già parlato moltissime volte lo trovate poi nella presentazione in maniera più esaustiva quindi in funzione del tipo di sostanza concentrazione della sostanza scelgo il dispositivo utilizzando quelli che la norma chiama fattori di protezione operativi quindi semplicemente facendo una semplice equazione che lascio nella presentazione quindi molto semplice valutazione del livello di concentrazione scelgo il dispositivo in funzione della concentrazione del tipo di sostanza quindi non sto qua a ripetervi differenza fra polveri gas eccetera perché non è questo sicuramente il punto centrale però la norma è molto precisa nel criterio di scelta tecnico diciamo così dopodiché e qua ho spiegato un po' quello che è il processo il processo di scelta ripeto alcune cose passo abbastanza velocemente nella scelta del dispositivo io devo tener conto non soltanto dell'aspetto tecnico ma anche degli aspetti legati all'adattabilità al volto e della comodità che il dispositivo ha nei confronti di quello che la norma chiama il portatore che è l'utilizzatore del dispositivo stesso e devo tener conto anche dell'attività lavorativa che io sto andando a fare questo vuol dire che se nella valutazione che io vado a fare è preferibile utilizzare un sistema magari con cappuccio il metto e un filtro in cintura perché ho bisogno contemporaneamente una protezione multipla e non soltanto delle vie respiratorie è certamente una considerazione che devo fare nella scelta del dispositivo di protezione individuale quindi non è soltanto mi dice che non è soltanto una scelta del livello del livello di protezione e lo vedete espresso anche poi successivamente nei criteri di scelta questo è quello che vi dicevo all'inizio della mia presentazione nei criteri di scelta c'è certamente la scelta sulla concentrazione tipo di sostanza eccetera ma ci sono anche altri criteri quindi devo tener conto di quanto tempo quella persona deve utilizzare quel dispositivo devo tener conto come si adatta al suo volto vedremo dopo come valutarlo devo tener conto anche della comodità dell'apparecchio stesso quindi l'aspetto della valutazione del comfort in qualche modo deve essere valutato all'interno del programma e quindi all'interno della valutazione del dispositivo del dispositivo stesso quindi non valuto soltanto il fattore di protezione e ho finito poi vabbè c'è tutta una parte sulle tipologie dei dispositivi che salto ripeto vi ho messo un po' quello che è lo schema logico della norma per lasciarvi qualche riferimento perché magari la norma non sempre l'avete sotto mano quindi vado salto alcune slide per questo motivo i criteri per individuare l'idoneità del dispositivo poi la norma mi dice questi sono i criteri che io vado a utilizzare per valutare l'idoneità del mio dispositivo che non è ripeto soltanto il fit test ma è valutare anche il campo visivo è qualcosa che io devo valutare è qualcosa di importante le condizioni climatiche in cui va utilizzato il dispositivo mi permettono di utilizzare un dispositivo magari pesante che mi crea un affaticamento eccessivo forse sì forse no magari è meglio utilizzare un dispositivo di un altro tipo con un comfort diverso e così via gli altri criteri che vedete vedete elencati qui allora passo veloce sulla parte di criteri di scelta perché vi ho messo un po' anche la norma e vi ho riportato alcune tabelle della norma per avere qualche riferimento su che cosa si intende per fattori di protezione operativi però non è certamente la parte che mi interessa approfondire con voi questa è una serie di tabelle tratte dalla norma uni per darvi qualche per darvi qualche riferimento e alcuni esempi di come si scelgono in funzione del fattore di protezione e come funzionano quindi perdonatemi vado veloce mentre scorri Claudio e arrivi appunto dove vuoi arrivare ti volevo chiedere esiste un facsimile di programma un facsimile di registro che può essere reso disponibile per far vedere insomma come si compila e quali sono tutti i punti che lo devono comporre allora all'interno della norma non esiste un facsimile del programma certamente è un documento che deve tener conto di quei punti che abbiamo visto prima nel senso che i contenuti del programma sono molto chiari quindi la norma te lo dice in maniera molto chiara quello secondo me diventano i titoli dei vari capitoli del mio programma di protezione delle vie respiratorie quindi quello io farei creerei un registro partendo da quei contenuti mi permetto di dire che questa è una domanda interessante perché potremmo dare un metodo di risposta a tutte le domande simili cioè quando la legge non prevede un modello come si costruisce un documento legge o anche norma tecnica che non è una legge ovviamente è una norma tecnica è una norma appunto come dice la parola è una specifica tecnica non obbligatoria ma in ogni caso se dobbiamo costruire un documento che può avere una rigaduta come prova leggiamo la fonte di riferimento molto banalmente e quello che ci deve stare deve essere tutto ciò che è previsto dalla fonte meglio se lo copiamo e lo copiamo con il linguaggio preciso del riferimento quindi ogni tanto mi fanno io addirittura ci faccio fatture su questo le aziende mi dicono ah vado a fatti ci fai un modello di attestato del corso di formazione certo basta vedere il punto 7 dell'accordo 21 dicembre 2011 che dice che l'attestato deve contenere nome, cognome codice ad eco e firma del soggetto organizzatore del corso quelli sono gli elementi essenziali ovviamente io ritengo che per una ragione di velocità di speditezza ci si debba fermare agli elementi essenziali della norma però ci possiamo anche aggiungere qualcos'altro per fare l'esempio dell'attestato del corso di formazione noi potremmo anche decidere che oltre la firma del soggetto organizzatore ci sia la firma del docente ma quella firma non è obbligatoria e ve lo dico perché molto spesso mi corrono dietro e dicono ah devi firmare gli attestati come docente io ogni volta mi sento male e gli dico ma no perché la norma non prevede l'obbligo della firma del docente no ma a noi ci fa piacere se tu ce lo firmi certo il corso l'ho fatto qual è il problema ma questo ha a che fare con lo standard redazionale ma se noi vogliamo dare un metodo ecco perché mi sono inserito hai ragione la risposta è se dobbiamo costruire un documento che ha una valenza normativa o perlomeno si riferisce a un documento come quelli che sta citando Claudio giustamente leggiamo gli elementi e riportiamoli all'interno del documento è una cosa molto semplice è una metodologia di attività che va bene un po' per tutto perché nessuno ti potrà poi contestare che i punti non ci sono e quindi lo si può fare per tutto lo si può fare per gli attestati lo si può fare per i documenti che dimostrano conformità rispetto alla norma tecnica lo si può fare per lo smart working anche l'accordo sullo smart working deve contenere degli altri è un po' più complicato devo dire non perché devo fare pubblicità a me pubblicità a me io voglio essere chiaro perché poi dire questa cosa e farla cioè poi voglio vedere se fate il copio e incolla magari ci sono anche alcune cose che non vanno bene ci vuole un po' non sto dicendo di fare il copio e incolla della norma sto dicendo che il documento va tarato su ciò che è essenziale per la norma di riferimento e quello io voglio vedere come ispettore come magistrato chiaro? quindi sto dandovi un metodo di ragionamento per costruire dei documenti esatto perché non sempre non sempre le norme le leggi i riferimenti vi dicono vi danno un modello di attestato vi danno un modello di programma come hai detto tu e allora ce lo dobbiamo costruire noi un metodo non può che essere questo la base è quella voi lo scrivete quello che volete ci potete mettere il fregio il capitello più carino queste sono questioni che ovviamente un povero arido avvocato non comprende la grafica dei miei documenti è inaccettabile ma questo non ha a che fare con l'aspetto giuridico ma con l'aspetto come posso dire estetico per cui Unicum vi potrà dare dei consigli al riguardo allora intanto vedevo anche qualche domanda che compare sul nella chat rispondo subito a una che voglio che sia chiaro fin dall'inizio ho visto una domanda che chiede è obbligatorio utilizzare la norma più recente la mia risposta è sì perché il riferimento a comma 2 bis è molto chiaro si applicano le norme più recenti criteri approvati sono quelli delle norme più recenti quindi di fatto la norma è approvata come criterio di scelta di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale quindi non la voglio fare più complicata di quella che è perché la risposta è molto chiara tornando a questo punto colgo l'occasione per un'altra domanda quali sono i tempi per adeguarsi a quello che ci hai appena detto ovvero che bisogna redigere questo registro che bisogna seguire tutti i punti perché questa è una domanda che è arrivata e sicuramente arriverà anche più tardi ed è bene dirlo adesso e magari ripeterlo anche dopo la battuta è ieri perché io mi limito sull'addestramento previsto ai sensi del 37,5 ovviamente l'obbligo di tenuta del registro è stato introdotto con l'entrata in vigore della legge 215 quindi sto parlando di un obbligo dal 21 dicembre del 2021 quindi se arriva un organo di vigilanza io l'addestramento l'ho fatto il 20 dicembre non mi potrà sanzionare se non trovo il registro però potrà chiedermi mi dà informazioni su come hai fatto l'addestramento questo lo può chiedere ovviamente cioè io poi li posso provare in qualsiasi modo che ho fatto addestramento dal 21 dicembre però è obbligatorio quindi ieri per me tutte le attività di addestramento devono essere registrate questa è la mia risposta proprio vogliamo dare una data ieri sì perché parliamo di questa cosa come se fosse un termine a cui adeguarsi in chissà quale futuro ma in realtà no perché la norma è già cogente cioè in generale il 37,5 è già cogente e la norma che prevede l'obbligo per il dp di terza categoria è ancora era già vigente prima del 21 dicembre non so se sono stato chiaro ciò che è diventato obbligatorio dal 21 dicembre è la formalizzazione della diciamo perché prima non c'era l'obbligo di tenuta del registro è chiaro che quando parliamo di dispositivi di protezione individuale quindi stiamo parlando appunto della scelta dell'adeguamento magari anche dei criteri di scelta e come vedremo tra poco anche del del fit test questo richiede un certo tempo di adeguamento quindi certamente immagino che anche l'organo ispettivo capisca che ci sia bisogno di un certo periodo di latenza per adeguarsi alla nuova disposizione normativa e non mi sorprenderei se l'INL in una circolare così come ha fatto per formazione informazione esplici di maniera più chiara questo aspetto insomma mi aspetto che sicuramente verrà in qualche modo chiarito paradossalmente scusate se ne riprendo ogni tanto mi vengono le idee paradossalmente la mancanza del decreto potrebbe comportare la difficoltà dell'ordine di vigilanza a fare la sanzione sulla nuova norma cioè a livello ispettivo loro gli ispettori devono comunque fondarsi su una norma di valore normativo l'obbligo su cui io sono completamente d'accordo con te perché l'ho già detto prima di atteguarsi alla migliore tecnologia rileva a livello penalistico e prevenzionistico cioè se io dovessi avere un infortunio legato all'utilizzo di una vecchia norma tecnica la perdo in giudizio chiaro? quindi io alle aziende dico attestiamoci alla norma tecnica più recente forse però in sede ispettiva avere eventualmente un provvedimento ma qui stiamo parlando di cose che nella pratica non considero possibili ma se ci dovesse essere un ispettore che che fa la sanzione perché non ho applicato la norma tecnica più recente rischierebbe di non avere il fondamento normativo perché gli manca il decreto perché di per sé la norma tecnica non è una norma obbligatoria dico bene Claudio la norma tecnica è una specifica tecnica non obbligatoria ma diventa obbligatoria quando viene richiamata o dall'81 come accade per le norme per esempio sulla movimentazione manuale dei carichi o comunque in generale è obbligatoria come parametro tecnico per l'adempimento dell'obbligo di quell'articolo 2087 del codice civile quindi paradossalmente rischio meno la sanzione piuttosto che qualcuno mi faccia il processo e quindi mi attesto comunque sulla norma più recente ma per ragioni prevenzionistiche non perché temo l'ispezione non so se è stato chiaro quindi da questo punto di vista sono d'accordo con te non è che ho detto ieri perché mi va di dare un messaggio chiaro cioè mettiamoci in testa che queste sono norme già vigenti no? sì sì che va fatto però magari a livello ispettivo qualche scucitura per evitare la sanzione la posso trovare cioè non toglie che invece per ragioni prevenzionistiche io devo andare sulla norma più recente perché è migliore da un punto di vista prevenzionistico è lo stato dell'arte assolutamente e tornando alla 11719 vi ho detto l'addestramento all'uso corretto non è riportato nella norma stessa ci sono molti riferimenti ai contenuti dell'addestramento ve l'ho detto nel vecchio decreto piuttosto che nella 529 quindi a quello conviene fare riferimento sui contenuti minimi dell'addestramento dell'uso corretto vado sul punto quello diciamo un po' più dirompente da un punto di vista delle attività che vanno riportate all'interno dell'azienda c'è anche tra l'altro magari vediamo anche com'è fatta l'attrezzatura per fare questa attività parliamo della prova di adattabilità la prova di adattabilità è prevista nella norma come obbligatoria io chiamo prova di adattabilità il fit test forse lo dovrei chiamare fit test però nella norma giustamente si è utilizzata la parola italiana perché è necessario fare il fit test per tante ragioni per quale motivo è stato introdotto all'interno della norma per le stesse ragioni quando abbiamo scritto la norma il gruppo di lavoro uni che ha scritto questa norma è coordinato da INAIL e c'è stata una fortissima spinta da parte appunto anche di INAIL nel voler sviluppare questa norma che includesse nuovi criteri di scelta ma anche includesse il fit test come verifica della bontà della scelta fatta nel dispositivo di protezione individuale stesso perché in questo vede un beneficio poi chiaramente nella protezione dei lavoratori stessi come viene fatta la prova la prova prevede e ritorno un attimo alle slide intanto non è da confondere con la prova di tenuta quindi il fit test non c'entra in mente con la prova di tenuta la prova di tenuta che è quella che spiega ai lavoratori quando fanno addestramento è quella prova che si fa per vedere se la maschera è messa bene da parte del lavoratore quindi è scritta nelle istruzioni d'uso quindi non confondiamolo con la prova di tenuta sono due cose diverse la prova di tenuta va fatta ogni volta che entro nell'ambiente di lavoro in Gran Bretagna questa cosa è obbligatoria da moltissimi anni quindi una certa esperienza l'hanno sviluppata il fit test deve essere fatto secondo una certa metodologia vado veloce che è quella descritta nell'appendice A della norma la norma prevede due tipologie di fit test un fit test qualitativo un fit test quantitativo che cosa cambia lo dice la parola stessa il fit test qualitativo è una prova dove il soggetto c'è anche una figura dove il soggetto che subisce la prova deve dirmi sì effettivamente ho superato la prova oppure no percepisco la sostanza che sto utilizzando quindi è un po' più soggettivo chiaramente il fit test quantitativo mi restituisce invece un dato oggettivo di quello che sta succedendo con l'apparecchiatura e il dispositivo indossato avete visto durante questa mattinata anche il video che è stato fatto che dimostra come funziona l'attrezzatura quindi avete visto come cambiava nel video si vedeva come cambiava la tenuta sul volto del dispositivo il dispositivo restituisce un valore di fitting della maschera un valore che è previsto nella norma la norma ripeto prevede i criteri per fare il fit test e li descrive in maniera molto precisa chiaramente non ne parliamo oggi però è scritto lì dentro come va fatta e in termini in cui va fatta definisce il fattore che devi superare secondo la prova del fit test quantitativo definendo dei fattori di fitting le attrezzature per fare il fit test quantitativo si basano su due principi diversi uno come quella che avete visto nel video che conta le particelle nell'ambiente e all'interno della maschera e per differenza mi dice se la maschera fa tenuta sul volto è molto semplice l'altro che misura la differenza di pressione fuori e dentro quindi misura se la maschera perde come se avesse un buco la gomma della bicicletta tanto per capirci in principio è un po' diverso ma concettualmente sono due attrezzature che misurano la tenuta sul volto il fit test qualitativo ve l'ho detto è qualcosa che utilizza delle sostanze è chiaro che è sicuramente valido ha il vantaggio di essere meno costoso e più più rapido non lo so perché più o meno i tempi sono simili però certamente più semplice da eseguire rispetto il fit test quantitativo che richiede invece un'attrezzatura una competenza anche nell'utilizzo dell'attrezzatura stessa che è un pochettino più evoluta qua poi sono descritte le prove anche gli esercizi ma questo è un dettaglio qua c'è anche il video di come funziona l'apparecchiatura stessa ma ripeto non è questo l'argomento questo è un po' come funziona il contaparticelle quindi misura le particelle fuori le particelle dentro e mi dà un fattore di fitting che cosa importante è che questi sono gli esercizi che devo fare va bene che cosa è importante dire il fit test di tipo quantitativo permette di registrare chiaramente all'interno perché la macchina è gestita da un software di registrare il superamento e non superamento della prova quindi mi permette di avere in maniera automatica un registro dell'attività che sto facendo cosa che se faccio il fit test qualitativo devo fare in maniera manuale quindi in qualche modo devo registrarlo perché la registrazione questa è l'altra apparecchiatura per fare il fit test la registrazione del fit test deve avvenire su un apposito registro quindi è previsto un registro specifico per il fit test che fa parte sempre del programma di protezione delle vie respiratorie quindi è un capitolo di quel programma ma è previsto un registro specifico per registrare questa attività vedete l'apposito registro e come l'apposito registro del 37,5 non c'è dubbio che il fit test sia attività di addestramento questo c'è poco da dire è proprio chiaro da un punto di vista del valore normativo dell'attività esatto a me qualche volta hanno fatto la domanda e qua magari ti giro un po' anche a te la domanda Lorenzo perché vediamo se la risposta che io ho dato è corretta o meno mi hanno fatto la domanda se io faccio il fit test e supero il fit test e registro il superamento del fit test automaticamente ho registrato anche l'addestramento io direi la mia risposta sarebbe che ho fatto un'attività che potrebbe essere di aggiornamento dell'addestramento quindi penso che sia la risposta che dobbiamo dare cioè perché un'altra domanda che mi fanno spesso è faccio l'addestramento ma poi viene fatto una volta per tutte no non sono le tavole della legge di Mosè scendi e sono quelle per tutta la vita l'attività di addestramento va secondo me in un'ottica di valutazione dei rischi va anche programmato un refresh poi tra l'altro con l'accordo se scrivono bene l'accordo probabilmente potremo sfruttare quelle operazioni di verifica on the job però la risposta che io darei è senz'altro è collegata all'attività di addestramento a mio parere potrebbe essere considerata nell'ambito di quell'aggiornamento dell'efficacia dell'addestramento che secondo me è comunque obbligatoria perché non è che possiamo d'altronde se ci pensate anche il primo soccorso dell'antincendio si fa il corso ma si fa anche l'aggiornamento perché nessuno magari per sapere se ti ricordi quali sono le procedure che devi usare in caso di emergenza quindi questa è una logica nulla è per sempre se non la fede calcistica ovviamente perché quello è un discorso che solo qualcuno che insomma può cambiare squadra poi ho un paio di persone che hanno cambiato squadra le conosco insomma non c'è nulla di peggio di una persona che cambia squadra di calcio ovviamente per fare una battuta leggera Claudio qualcuno l'ha fatto qualcuno l'ha fatto però insomma sul valore etico di chi faccia una scelta del genere brutte persone brutte persone brutte persone Claudio ovviamente sto scherzando nessuno si deve arrabbiare una domanda anzi due sì la prima è quali sono i lavoratori obbligatoriamente sottoposti a fit test nel senso chi deve farlo in azienda il fit test allora il fit test si fa su tutti i dispositivi a tenuta sul volto evidentemente quindi dai facciari filtranti le maschere intere l'autorespiratore eccetera questo è abbastanza chiaro e tutti i lavoratori che utilizzano quel dispositivo lì quindi è molto chiara la norma non fa distinzione in funzione dell'attività lavorativa o del tipo di rischio quindi c'è nel momento in cui utilizzo un dispositivo che vi ricordo dispositivo di terza categoria che serve a preservare da rischi gravi per la salute è un dispositivo che anche pur semplice come i facciari filtranti che abbiamo imparato a utilizzare in questo periodo sono dispositivi a tenuta e quindi devo fare il fit test per verificare che funziona quindi provocatoriamente anche il direttore di stabilimento che dovesse eventualmente svolgere un'attività di quel tipo perché non dipende da questo non dipende dal fatto che tu sei direttore generale sei amministratore delegato sei dirigente di stabilimento perché sei esposto allo stesso fattore di rischio esatto tutti coloro che da DPR sono esposti al fattore di rischio e devono indossare i DPI che hai citato sono sottoposti a fit test esattamente sicuramente è impattante perché io vedevo discorrere anche nelle domande c'era una considerazione di un partecipante che dice ho 600 lavoratori e su questi 600 lavoratori devo fare il fit test la risposta è sì è chiaro che non lo fai entro domani il motivo per cui nella norma è previsto che il fit test venga ripetuto ogni tre anni o quando cambi il dispositivo perché chiaramente se cambi forma di dispositivo devi rifarlo comunque tenendo conto che usi sempre lo stesso dispositivo tu ogni tre anni devi rifare il fit test per quale motivo quando abbiamo scritto la norma abbiamo pensato a tre anni perché in una realtà complessa dove magari ci sono centinaia di lavoratori quando parti a fare il fit test ora che arrivi alla fine e li hai fatti tutti magari sono passati quei tre anni e poi riparti riparti dall'inizio questo è un po' la logica perché non si può pretendere che se io ho 600 lavoratori nel giro di un mese faccio il fit test a tutti i lavoratori perché comunque fare un fit test il video vi ho messo il link l'avete visto richiede un certo tempo anche con la procedura più veloce che adesso si può fare con una procedura un po' più veloce anche col fit test quantitativo e non so se l'avete visto comunque ci vogliono sempre tre cinque minuti minimo poi ora che mette la maschera quindi ci vogliono alcuni minuti e moltiplicano per il numero dei lavoratori che hai sono giornate intere di lavoro e questo lo comprendo a me qualcuno mi dice il fit test per me è impattante perché è una cosa in più che devo fare ai lavoratori io mi domando ma quando è stata introdotta la visita periodica obbligatoria è stata fatta la stessa osservazione probabilmente sì però che beneficio ha avuto quel provvedimento lì nella prevenzione della sicurezza sul lavoro questa è la stessa cosa è un obbligo che è impattante per l'azienda ma va nella direzione di garantire la reale protezione del lavoratore perché io misuro se effettivamente quella maschera che gli sto dando funziona sul volto di quella persona perché questo è l'aspetto più importante e anche dei riflessi e di questa riflessione l'abbiamo fatta anche assieme in tempi non sospetti quando un ero obbligatore fit test in termini di responsabilità del datore di lavoro perché può dimostrare in maniera certa di aver scelto il dispositivo non solo adeguato al livello di rischio ma anche i donne e il suo lavoratore quindi a distanza di tempo ha una certezza di ciò che è stato dato giusto per chiarire chi indossa le mascherine per le norme emergenziali e quindi le procedure che sono state introdotte non è tra i lavoratori che sono sottoposti a fit nel senso l'uso di mascherine introdotto dalle norme emergenziali ha a che fare? Allora chi usa la mascherina negli uffici? Secondo me anche secondo me no perché allora secondo me si fa il fit test al lavoratore che all'interno della valutazione dei rischi esposto a un certo rischio che lo sappiamo un rischio chimico utilizza un dispositivo per la prevenzione nei confronti di quel tipo di rischio lì e allora è all'interno della valutazione dei rischi è stato scelto un dispositivo secondo i criteri che abbiamo detto prima e quindi si fa il fit test mentre in questa situazione che è una situazione di emergenza pandemica tra l'altro ricordiamo che la mascherina non è nemmeno un DPI quindi voglio dire è vero che protegge dalle vie delle ispiratorie rispetto al covid in una disciplina emergenziale alla quale non possiamo applicare la norma perché chiaramente essendo un dispositivo medico e non un DPI qui abbiamo a essere un po' tecnici giuridicamente una mascherina non è un DPI quindi non è nemmeno applicabile per analogia la mascherina chirurgica la mascherina chirurgica intendo è un dispositivo medico lo sapete che c'è il decreto che infatti cesserà col periodo emergenziale che per una ragione molto pratica ne ho discusso proprio qui a marzo del 2020 il DPI marcato CE filtrante facciale con una marcatura CE non si trovava andava letteralmente a ruba quindi il legislatore che ha fatto ha detto solo per il periodo di emergenza rispetto al rischio covid non rispetto agli altri rischi come diceva bene come dicevi bene Claudio e allora per questo periodo emergenziale anche la mascherina chirurgica che è un dispositivo medico ma non è un DPI è considerata di livello equivalente a un dispositivo di protezione individuale marcato CE come da titolo terzo dell'81 del 2008 quindi questa è una ragione giuridica per dire non si applica a parte che cesserà poi questo il 31 marzo cessa questa disciplina quindi la domanda è una domanda che in generale la risposta è no in particolare la domanda alla fine non ha nemmeno un impatto perché poi dopo la diventerà una misura volontaria e a quel punto sarà fuori norma paradossalmente l'utilizzo della mascherina chirurgica del 31 marzo per un fattore di rischio che richiederebbe un DPI è fuori norma sì sì ma anche se viene utilizzato un FFP2 infatti allora i presenti dicono hanno fatto una domanda adesso la ripeto io beneficio di chi è collegato in qualche caso è richiesto l'FFFP2 hai ragione ma l'FFFP2 è un vero e proprio DPI e questa è la differenza cioè nella disciplina derogatoria è stato portato al livello di un DPI di 81 qualcosa che normalmente non è al livello di DPI dell'81 chiaro dovete fare dovete fare la domanda io la devo riportare perché ci sono le persone collegate c'è una domanda dalla platea qui dei coraggiosi presenti sì ma giusto no l'ha fatto anche uno collegato chi le aziende che hanno individuato come FFP2 la copertura da covid negli uffici sono obbligati a fare perché il succo poi era quello a fare il fit test secondo me no perché cesserà la disciplina il 31 marzo quindi a questo punto il problema non ce lo poniamo nemmeno più ma pure in generale secondo me non è così perché non rientriamo in quelle ipotesi alle quali si ritiene applicabile la norma questo però sono d'accordo è la mia interpretazione perché la domanda e poi ripeto che è una domanda che ha un suo senso ma che dal 31 marzo a questo punto non ce lo dobbiamo nemmeno porre perché a quel punto andiamo a fare un ragionamento in termini generali quindi se ho un problema di rischio chimico un problema di polvere di un certo tipo eccetera rientriamo nella valutazione dei rischi applichiamo la norma e quindi vale quello che ha detto Claudio ma secondo me la risposta alla tua domanda è secondo me no esatto sono d'accordo l'altra domanda è chi è abilitato a fare il fit test allora ok perfetto questa è una domanda interessante tra l'altro avevo messo anche un paio di slide di riferimento su questi aspetti qua comunque vado a braccio poi le slide le trovate potete scorrere anche voi siccome ci stiamo avvicinando alla chiusura ma tanto poi trovano tutto il materiale lo trovate poi nelle slide anzi trovate anche di più di quello che sono riuscito a dirvi in sostanza nella norma non viene definito la competenza di chi va a eseguire questo tipo di fit test questo è così in tutti i paesi dove il fit test è già obbligatorio da anni vi ho fatto l'esempio della Gran Bretagna ma negli Stati Uniti uguali in Australia insomma sono molti i paesi dove questa attività è obbligatoria anche in Francia per l'amianto in Belgio eccetera in nessun paese è previsto una qualificazione ufficiale del fit tester chiamiamolo così dell'operatore che va a fare il fit tester come funziona? funziona su uno schema di qualificazione volontaria uno schema di qualificazione volontaria che è gestito dall'associazione di categoria dei produttori dei dispositivi di protezione individuale in genere e così in Gran Bretagna e sarà così in Italia dove viene applicato uno schema di qualificazione che si basa su 14 competenze che deve avere l'operatore che va a fare il fit test che deve superare un esame per poter essere qualificato e deve superare un esame secondo queste competenze che sono state stabilite che sono competenze che riguardano non soltanto il funzionamento del semplice dispositivo di protezione individuale o dell'attrezzatura per fare il fit test ma anche su come si sceglie come si verifica se effettivamente fa tenuta sul volto quindi ci sono una serie di aspetti più tecnici da valutare questo sistema di qualificazione che è già in vigore in Gran Bretagna ed in Belgio verrà implementato analogamente qua in Italia tasso sistema Seafety che è l'associazione di categoria dei produttori e distributori di dispositivi di protezione individuale in Italia tra l'altro Unigum è parte anche del consiglio di direzione dell'associazione stessa lo schema di qualificazione verrà gestito dall'associazione che darà una qualificazione secondo lo schema inglese che si chiama fit to fit poi lo trovate nella presentazione che riceverete troverete anche il link è un sistema di qualificazione molto trasparente nel senso che sul sito troverete anche i nomi di chi è stato qualificato per fare questo tipo di attività ed è uno schema volontario che ci siamo voluti dare un po' come regola a noi produttori di dispositivi di protezione individuale per fare in modo che chi va a fare questa attività sia in qualche modo qualificato nel farla e abbia le competenze per farlo quindi non è semplicemente una persona che ha l'attrezzatura e pronti via va a farlo quindi vogliamo fare in modo che abbia un certo tipo di competenza a questo proposito e a questo punto mi riavvicino vicino al video volevo inserirmi per dire che in Unigum tutti i tecnici i miei colleghi che si occupano del supporto ai clienti sono stati formati per poter effettuare il fit test quantitativo e che l'azienda si è dotata con quattro macchine quelle che avete visto scorrere magari tra le immagini o comunque nel video che abbiamo passato quindi per questo tipo di servizio contattateci siamo a vostra disposizione siamo formati e informati e addestrati per poter erogare il servizio e quindi potervi supportare nella redazione di questo registro che ricordiamo è diventato obbligatorio ecco poi troverete nella presentazione anche per le vie respiratorie dei riferimenti sulla gestione della manutenzione perché ci sono degli obblighi anche lì di un registro del responsabile eccetera ma vi rimando alla presentazione chiudo solo per ricordarvi che l'aggiornamento non riguarda solo la protezione delle vie respiratorie ma anche c'è tutta una parte nuova sulla protezione dell'udito vi dico questo perché ieri è stata la giornata mondiale della protezione dell'udito è stata ieri la giornata organizzata dall'OMS io ho partecipato a una relazione dove ci rappresenta anche l'OMS ha fatto vedere i dati della perta dell'udito a livello mondiale siamo arrivati ormai al 20% della popolazione mondiale che ha problemi all'udito e in prospettiva nel 2050 il 25% della popolazione mondiale avrà problemi uditivi questo anche dovuto all'utilizzo di apparecchi elettronici eccetera che sono sempre più comuni quindi è un problema molto importante l'aggiornamento del normativo che fa riferimento a una norma che si chiama N458 del 2016 troverete i riferimenti nelle slide prevede anche lì una verifica dell'idoneità del dispositivo in funzione del livello di rumore e suggerisce in quel caso non è obbligatorio lo ripeto non è obbligatorio suggerisce anche lì una verifica tipo fit test dell'adeguatezza del dispositivo che però non è obbligatorio come per le vie respiratorie dove invece è obbligatorio qua mi fermo lascio spazio alle domande ci sono un sacco di domande che non riusciamo a gestire in questo momento quindi cercheremo di raccoglierle e cercheremo magari di dare una risposta poi successiva attraverso un documento come abbiamo fatto anche per gli appuntamenti passati in cui si cerca di riassumere anche perché poi tante domande sono simili cambiano per pochi aspetti cercheremo appunto di fare un'analisi a posteriori e di farvi rispondere dai nostri relatori mi dispiace intervenire così non abbiamo avuto poco tempo di approfondire il discorso dell'udito magari approfondiremo in un secondo momento anche perché come sempre tutto quello che ci chiedete di approfondire cerchiamo poi di metterlo nel calendario e negli eventi successivi io chiederei alla regia di mandare le slide di chiusura vi ricordo un paio di informazioni e poi ovviamente cominciamo a ringraziare i nostri relatori tutto quello che vi è stato detto per quanto riguarda la piattaforma per effettuare il test e scaricare poi gli attestati non vi preoccupate ve lo ripeteremo via mail vi manderemo il link per accedere e tutte le istruzioni per potervi collegare e compilare il test ricordiamo che il test lo dovrà sostenere chi ha richiesto l'attestato formativo con i crediti chi ha richiesto un attestato di partecipazione non è chiamato a rispondere al test tutto il materiale che Lorenzo e Claudio hanno preparato per la mattinata tutte le slide che sono passate a spot vi verranno condivise e e qui inizio a parlare di quello che è rappresentato nella slide le registrazioni e le tracce audio verranno poi caricate sui nostri social vi ricordo che abbiamo un canale YouTube e un canale Spotify in cui sono state già caricati tutti gli appuntamenti della stagione passata vi invito ad andare a darci un occhio poi vi condivideremo tutti gli indirizzi e la traccia di oggi e la registrazione di oggi verranno poi rese disponibili dopo la post produzione vi ricordo inoltre il prossimo appuntamento in programma quindi quello del 25 di marzo in cui insieme ad Ansel parleremo di guanti e abbigliamento contro il rischio chimico ancora non sono aperte le iscrizioni vi condivideremo il link vi manderemo tutte le comunicazioni relative all'appuntamento speriamo di avervi numerosi almeno quanto oggi vi ringraziamo di aver partecipato con noi e cominciamo a ringraziare i nostri relatori grazie a Claudio Galbiati grazie a Lorenzo Fantini grazie a voi grazie ai presi e ai collegati grazie a 3M che ovviamente ci ha prestato oggi la figura di Claudio che ricordiamo ricopre anche un ruolo istituzionale è presidente di Assosistema Safety grazie a Queen il nostro partner informativo grazie a cui è tutto un grazie scusate mi sto ripetendo però come mia mamma quando guarda questi video dice ma te ringrazio sempre e io ringrazio sempre perché abbiamo no 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 perché sono una persona educata perché abbiamo tanti partner ed è giusto citarli tutti e quindi grazie di nuovo a tutti di averci seguito grazie a voi grazie all'ospitalità e buona giornata buon fine settimana e al prossimo appuntamento grazie grazie arrivederci grazie